Per chi non avesse visto le storie, che non avesse visto le storie di oggi, collaborazione Logitech e Riot Games con League of Legends, signori, le periferiche KDA. Voilà! Meraviglia! Ragazzi, io non so se si rende bene l'idea, ma è troppo sfarzoso, è bellissimo tutto ciò. Veramente fantastico. Veramente, veramente fantastico. Magari qualcuno di voi potrà dire che LOL è un gioco di merda, che non vi piace, che non lo capite, che fa schifo, ma in quanto a marketing sono fottutamente imbattibili altro che i pubazioni Fortnite. Altro che i pupazzini di Fortnite, guardate qua che roba. Ci hanno gentilmente offerto in questo packaging super bello. Il tappetino, la tastiera, cuffie, cuffiette e mouse. Eh, o no ragazzi? Dopo lo installo, ecco a posto. Scaricate LOL, non mi pagano per dirlo, anche perché non ne ha bisogno. E' fantastico ragazzi, è bellissimo sta roba qua. E' bellissima sta roba qua. Che poi non so se si vede, ma ogni accessorio, c'ha vabbè il nome del campione. Un'altra scritta KDA è tutta bella glitterata, no? C'ha anche il nome del champion. Qua vedete Akali. Champion di merda, sbroccato. Vabbè, tolto questo. Cioè, guardate che bella anche il silico e le scatole come sono. Cioè, io, questa roba qua, la vorrei tenere sigillata, perché il collezionista che è in me non vorrebbe mai aprire una cosa così bella. Non vorrebbe mai aprire una cosa così bella il collezionista che è in me, però mi sa che mi tocca. Niente. Bellissimo ragazzi. Bellissimo. Cazzo abbiamo. Ari, Kaisa. Ah, Akali. Kaisa, Ari. Per qua ce stanno tutte. Seraphim non la sopporto. Qua c'è il tappetino. Niente. Magari l'apro tutto per stasera, che stasera c'è League of Legends. Ragazzi, se li apro ora... Purtroppo la postazione d'unboxing non ce l'ho pronta. Quindi magari l'apro stasera, che appunto c'è la live di LOL, quindi è un po' più... Eh, ci siamo capiti? Ecco qua. Quindi, se volete vedere ogni componente... Aspettate che abbasso il gain. Ah, non è il gain questo. Ah, il gain non l'avevo alzato. Vabbè. Se volete vedere ogni singolo componente, ragazzi, ci becchiamo in live questa sera. Così sistemo la postazione d'unboxing che purtroppo ho dovuto staccare qualche cavo per i problemi che avevo tempo fa, vi ricordate? Dello scoppiettio, della roba USB, eccetera. E riattacco e spacchettiamo stasera. C'è Scalamoro, tranquilli. C'è Scalamoro. Anzi, su League of Legends i tasti laterali sono più per... Alcuni mettono il Trinket, le Summoner, l'Ignite. Lo so, molti di voi non sanno di che cazzo sto parlando. Va bene, a me nello stesso. Grazie, casa! Per il subgiftato, schifezza, grazie dei Beats, Scalvigno, Libel, il Bello, grazie mille del Prime. Molto bene, ragazzi. Andiamo su Minecraft. Andiamo su Minecraft. Quindi stasera facciamo l'unboxing. Sembra proprio un'ottima idea. Allora, Pandora S&P, zoomiamo. Se i signori moderatori vogliono farmi uno squad stream con Bertro, li ringrazio. Ok. Stoppa la musica, non so perché l'ho rimesso. Ci siamo. Due, tre, quattro. Signor Bertro, eccomi! Oh, signor Fievic, venga, venga, che abbiamo finito già il granito. Ok, ti aiuto. Scusa, stavo spacchettando la scatola delle periferiche, no? Quelle KDA. Delle KDA. Mamma, che bella Bertro, ma l'hai vista? Molto carino, molto carino. Veramente figo. Riot ci sa fare col marketing, c'è poco da... Stavo di nuovo per farmi bannare, la mia vita è incredibile. Un applauso. Stavo per dire una roba mega bannabile. Meglio di noi. Un applauso per le KDA che ci piacciono sempre un casino. Oh, sì, sì, perfetto. Aspetta, allora, prima di venire da te e darti una mano, vorrei dare un'occhiata come sta andando sopra, perché... Ah, il mob spawner? Eh, il mob spawner, sì, che non so più com'è andato, quindi sono assai interessato. Io non l'ho mai visto, vorrei vederlo anche io. Ah, e vieni, vieni, ti ci porto. Aspetta, finisco di mettere giù dei muretti. Ok, metti pure giù. Mi sono anche voluto male e ho deciso che ogni cinque blocchi di muretto ci sarà una torcia, che poi dovrà diventare una lanterna, ovviamente. Eh, minchia, vado a dire a Nova che è quella farm di ferro, che non vuole la farm di ferro. La faremo, la faremo, sarà per un bene superiore. Esatto. Comunque, Eh, mettiamo gli spreccii di tutti su via. Mandate la stream squad a Fievic, voglio fargli vedere. Ho abolito un po' di case, adesso darò fuoco a un po' di rimanenze. Perfetto. Ovviamente è tutto legale. Certo, certo, immagino. Ok, ci sono. Dove sei? Sono sul mio ponte. Aspetta, ho della cobblestone, ne ho 29. Eh, non so quanti ne puoi fare. Ovviamente sulle scalinate più torce, perché... Eccomi. Arrivo! Ok, dai, vieni a vedere la farm. Speriamo che non me l'abbiano disintegrata o cose simili. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questi sono dei polli in una barca. Quattro, cinque. Ah, quella era la barca dove avevo lasciato lo zombie villager l'altro giorno. Ah, vabbè. C'erano due polli. Li ho ammazzati. Eh, lo so, li ho visti anche prima. No. Eh, sì, invece. Sono morti. Mi dispiace. Piangete per i polli. Oddio, ricominciamo. Piangete. No, scherzo. Bertra, dai, vieni. Sto andando a responer. Sto arrivando, sto arrivando. Uh, ma questa è tutta... No, non è mossico. Bluestone, blè. Ok, andiamo a vedere come sta andando. Vediamo, vediamo come sta il nostro bambino. Che l'ultima volta poiché te ne ero andato ho finito la costruzione. Poi è arrivato Franzo. L'ho... Eh... L'ho invitato. Adesso non spawnerà nessuno ovviamente perché ci sono 50.000 persone nel server quindi non spawnerà nessuno. Sì, oggi il server è bello pianotto. Eh, i mates ci stanno. Poldo, Nova, Pari, insieme. Quanta gente che c'è. Che cazzo. Oggi è molto vivo. Oh, qui c'è un buco. La salita è sempre questo orribile... Vai a rubare i casi i mezzi. Oh, dobbiamo vendicare. C'è vero. Perché? Cos'è successo? Eh, perché ci hanno picchiato i villagers. Era stato Stephanie. Cosa facciamo? Gli rubiamo a casa? Non lo so. Si stava attrazzando come una maiale. Vedremo. No, vabbè, sei mesi. Vedremo cosa fargli. Io settimana prossima poi inizio il mio tatuaggio, Fievic. Oddio. Mi faccio tutta la sleeve sul braccio sinistro. La sleeve? Cioè? È sleeve manica in inglese. Ah, ok. No, è che... Nella mia testa la sleeve è la busta protettiva delle carte. Eh, esatto. Da valore collezionista. Ah, ok. La busta protettiva del braccio. Mi faccio la busta protettiva del braccio, sì. Ok. Perché ti fai una manica? Non è meglio mettersi una maglia? Per le maniche? Beh... Chiedo. Allora... Ehi, qua qualcosa è successo. Ci sono due archi e tre ossa. Incredibile. Sì, sì. Ah, sono cascato. Ah, fammi vedere intanto su che se non si è sminchiato... Nooo! Nooo! Dio Cristo, Berta, che disastro che sei. Pensavo ci fosse l'acqua lì, le shaders mi hanno trollato oltretutto. Non prendere i miei livelli. No, io so... Io non mi ci butto. Sì, qua è andato tutto puttana. Ecco perché non andava niente. Qualcuno me l'ha clippata questa, gentilmente. No, le clippate. Le ho abilitate adesso. Clippate, me lo vi prego. Presto! Perché le hanno disabilitate le clip, Berta? Eh, perché quando faccio le reaction le disabilito. Ah, per... Per paura. Ah, ho capito. Perché le disabilito... Tu non lo fai? No. Ah, tu te ne batti proprio la minchia? Ne batto la minchia, onestamente. Madonna, ma sei un vero uomo. Eh, lo so. Comunque sono stato trollato dalle shaders. Il grigio della cobblestone sembrava un botto il grigio dell'acqua. Niente. Unlucky grigio della cobblestone. F in chat, signori. F in chat per i miei livelli. Puttana Eva, erano 33 ai livelli, come gli anni de Cristo. Eh, lo so, Berta. F in chat, ragazzi. Povero Berta. Porco, demonio, infernale cane. E qui mi fermo. Ah, c'è che io non ho gli scarpini di diamante. Eh, feroni. Cazzo. Ma porco. È sparita la redstone. L'ho rotta, è sparita. Ma com'è sparita? Bertra, porta su della redstone, per favore. No, no. Dai, Bertra, si rovina. Ho rotto la redstone per poi ripiazzarla. È sparita. Sei proprio uno streamer di LOL. Che cazzo. Non ho nient'altro da dirti. Vabbè. Ah, comunque, con la chat siamo arrivati a una soluzione che risolverà la nostra mancanza di diorite, che in realtà non c'è per ora, e che soprattutto ci permetterà di spendere la metà sui materiali di costruzione, cioè fare le slab di diorite e mettere solo la parte alta, così poi ci posso fare comunque le rotaie, ma usiamo metà materiale alla volta. Incredibile. Mentre per il granito ci attacchiamo al cazzo. E basta. Ci attacchiamo al cazzo. Va bene. Comunque di adesso ne basterebbero proprio due pezzi che li ho rotti per aggiustare, però appena li ho rotti è scomparsa. Proprio non è nell'inventario, non è da nessuna parte. Io adesso comunque farò... Raga, per chi è nel gruppo sub, manderò una foto di come è spatasciato il mio gatto in questo momento, perché è diviso. Non so, è sparito, vabbè. Aspirina, grazie mille del sub. Quindi se non vedete vuol dire che non si è salvato. Ben tornato. Grazie mille. Fronzi. Morto. Allora, dove eravamo rimasti? Che serviva la redstone. Dov'è la redstone in tutto ciò? È nella cesta, quella sopra, tra le foglie. Ah, quella mega nascosta. Sì, super iper nascosta. Te ne porto quanto? Uno slot, dai. Poi la metti lì in una cesta. Sì, sì. Sì, ci sta come idea. Così se serve. Dovessi ricapitare. Madonna, le botole sono... Na merda. Attacchiamo il cazzo e tirate forte. Chi c'è? Buonasera. Quello inutile. Quello che sta costruito tutta la baracca qua, eh. Sì, sì. Ma vedi cosa sto costruendo io. Cosa stai facendo di orribile? No, è bellissimo roppere il cazzo. Cosa stai facendo? Poteva essere più brutto, l'ammetto. Leo, vieni a vedere lo spawner che ho fatto. La cosa nel cielo? L'ho vista. Sì. Eh, ma sei venuto... Cioè, sei andato a vedere un'utilità che ovviamente non c'è perché ci sono 50 persone connesse. Spero salito, ho visto come funziona, però ho detto, ehi, siamo in 5 del server, non funzionerà mai. Esatto. E adesso funziona ancora meno perché ho rotto della redstone perché devo aggiustarlo e la redstone è scomparsa. Quindi ho mandato a vero tra... Scompari chiuda. Come si fa risciuta? Eh, vabbè, avrà laggato e sarà cascata di sotto. Cosa stai costruendo, Bertra? L'autostrada. Sarà l'autostrada del server. Abbiamo deciso che noi siamo la famiglia Benetton da oggi. Ok, va bene. Ti piace? Ho una domanda. Chi è che ha fatto strase di cose per i banner? Io. C'è la mamma mia. Quando abbiamo fatto il ride. Quando abbiamo fatto il ride io e Fieri. No, quando sono andate alla torre. Alla torre. Alla torre. Alla torre. Mentre portavano la bucca. Ce l'ho arrivato ieri, entro le sera e faccio ok. Non si entra più nei villaggi per un po'. Perché? No, ma nessuno di noi ha il bedomen. No, no. Allora, all'inizio ho pensato che fossero quelli del bedomen. No, no. Ah, ok. Vabbè, anche fosse comunque. Cioè, non è che la presenza del banner ti fa avere il bedomen. Cioè, è killare quello che ha il banner che te lo fa avere. Appunto. Quindi ho pensato, visto tutti quei banner, hanno ucciso un fracco di gente. Beh, in realtà anche l'abbiamo uccisa. Aspetta, Bertra, no! Niente, devi fare disastri. Aspetta, viene. Redstone Repeater goes brrrr. Aspetta che vado ad aggiustare la redstone che manca qua dietro. Madonna, che complesso che è sto coso. Ma quando è che la crafting fa flop? Eh, hanno aggiunto dei plug-inini. Posso sedermi sugli scalini? Madonna, Fieric, vieni qua, vieni qua sul bordo. Guarda quanto è bella l'autostrada. Eh, sembra un'autostrada, effettivamente. Madonna, che bella. Mamma mia. Ok, Bertra, sei pronto? Adesso devo far partire i ticchi. Ma hanno messo tutto tranne di sedersi sugli scalini. Ecco qua. Ah, Leo, mi serve un favore, Leo. Dimmi. Andiamo giù. Tutto il granito, tutta la diorite e tutta la cobblestone che hai. Sono tutte nelle casse. Eh, allora vuol dire che c'è finito tutto. Cazzo. C'è niente. Ecco. Ovviamente non scenderà nulla, ma noi già questo lo sappiamo, vero? Noi ci speriamo. Funziona, wow, bellissimo. Hai visto? È caduto uno stick incredibile. Ma l'autostrada da dove la fate partire? C'è nel nether, è nella... No, no, è partita da un po' di fianco a casa e va dritta in una direzione secca all'infinito, per ora. Ok. E poi ci saranno... Volevo fare i caselli e le diramazioni per le case. Comunque mi piace come da casa nostra, che praticamente era più verde del server, vivendo tra gli alberi, così parte l'autostrada. Eh vabbè, i soldi si fanno. Eh beh, certo. È proprio il classico paesino di montagna in cui passa vicino l'autostrada e rovina tutto quanto. Esatto. I vecchi che si lamentano. Sono io di Milano, è il mio lavoro questo, scusa. Vabbè, scendiamo, tanto finché ci sono 50 persone connesse non andrà mai sta farm. Ci colleghiamo alle 3 di notte quando siamo solo noi e facciamo livelli su livelli. Esatto. Questa dovrebbe essere l'idea. E funzionerebbe anche. C'è bisogno di granito, Pierrick. E cobblestones. Adesso andiamo a prenderla. Io ho ancora un po' di diorite, quindi allungo un po'. Io bisogno di mettere mending ovunque perché mi si sta rompendo un po' tutto. E via. Il gatto è fuggito, è finciato. Andiamo a dormire che... Madonna, prima quando non c'eravate era notte, è partita la tempesta di fulmini, mi è caduto un fulmine di fianco, se fosse caduto sopra casa mi sarei messo a casa. E' un bel problema. L'altro giorno non è caduto uno vicino a casa, mamma mia, mi sono cagato sotto. Quando c'è la tempesta dormite subito. Io dormivo, ero l'unico, ho detto affanculo. Ci proviamo. L'ode a sadana. Sei. Cos'è questo poof? E' la crafting. La crafting. Fate la nanna, amici. Ok. Quanta gente che deve dormire qua. C'è. La madonna, tutti noi tre siamo a dormire. Sì, infatti, solo noi dormiamo. Quanti siamo online? Tantissimi. Ma oggi è un botto di gente. Ma sono anche Stepney e Anima. Ah, ma la giocano anche loro, non solo Surry. No, no, ci sono tutti, c'era anche Vegas. Ma c'è anche Vegas. Farnis, Nova, Emerald, oh, tanta gente. Leo, quanti diamanti abbiamo? Tu che hai nascosto i diamanti, mi puoi fare gli scarpini? Mi puoi fare gli scarpini, per favore? Li metto qua, li metto qua. Tanto adesso non ci servono più. Aspetta, gli scarpini ce li ho, ce li ho, ce li ho. Ah, ok. Se puoi darmi, perché io me li sono persi. Tieni qua, tieni qua per terra. Aspetta, ti enchanto qualcosa io. Io enchanto gli scarpini, così. Pazzo. C'ho la respirazione. Io sto facendo, devo, ho fatto la stanza, non so, cioè, penso che avete visto, ho spostato gli animali, e adesso sto facendo la stanza delle ceste, e poi farò la, alla casa dei villager. Feather Falling 2, yes, bellissimo Feather Falling 2. Io ce l'ho al 4. C'ho la protezione 3 che non mi ispirata. Madonna, che palle sta animazione qua. Mi manca un livello, ma niente, è andata. Ero a 33 livelli, Leo. Poi nel coso di fierico ho deciso di provare il bungee jumping senza corda. Oh. È stato molto doloroso. Io continuo l'autostrada, se qualcuno vuole venire deve portare granito e cobblestone e diorite. Tutta lavorata qua. Io andavo davanti con la cosa del magazzino. Dicono che Leo deve accettare la stream squad. Vero. Solo che ogni volta che al tabbo mi si chiude Minecraft, non capisco il perché. Ma che cazzo? Metti la finestra. Ma ho OBS che è impazzito. Allora, non mi fa più vedere lo schermo. Non mi crea più fonti nuove. Eccolo lì, è andato. Se creo fonti nuove, fa... Fa tipo tutto stifissimo, non lo so. Tipo vengono fuori delle cose strane. È impazzito. Ho chiesto a Bobby e mi fa che non sa cos'è. È acquistale. È della cazzo. È formato il freddo. Mica l'ho fatta io. Sì, sa che lo farò. Madonna. Guardate che bella sta autostrada. Io sono un grande fan. Poi dovremmo fare l'altra carreggiata una volta fatto tutto. Ma il piccone di ferro con silta ci si serve? No, non penso. Ma in realtà l'avevo preso per quando ero andato io a Coralli. Comunque deturpa veramente tutto. È incredibile quest'autostrada. Ma perché si chiude? Ok. Niente, ho bisogno di livelli qua però. Ma perché? Com'è successo, Leo? E continua a chiudersi Minecraft. Si apre, si chiude, si apre, si chiude. Anche se non è al tabbo? Quando hai il PC potato. Non è potato! Poteto, potato. Quello che mi è costato. Quanto ti è costato? 15 sterline. 1900 euro, quindi non è potato. 1970. Non saprei. Me l'ha fatto Riva. Wow. Gigi, un calciatore? Sì. Perfetto. Ok, niente. Bisogna fare... Tieni questo PC. Farlo normalmente costerebbe 200 euro. Però io te lo faccio a 2000. Io faccio ok, tieni i miei soldi. Giusto. Grazie, molto gentile. Ma il granito la diorite c'è nella chest qua. Ce n'è ancora? Prendi, prendi. Lavorala e prendi. Ce n'è tanta anche. Io sto dando fuoco alle case dei villager. È tutto legale, ragazzi. Tutto? Ho chiesto il permesso. Sì, sì, sì. E loro te l'hanno dato il permesso? No, però l'ho chiesto. Ragazzi, non si può avere tutto sul via. È un passo avanti, è un passo avanti. Va bene lo stesso. Io metterei tutti i cibi diversi. Ecco qua. Le lanternine mi mancano. Ho fatto un po' di ponteggi qua. No, è bello. Se li volete, ragazzi. I ponteggi fanno super mega iper comodo. Mega super mega Ikea, hai detto. Super Ikea, sì. Mamma mia, devo andarci all'Ikea. Leo, tu per quel pezzettino alla fine che hai fatto tu? Non l'ho messo. Io comunque nei prossimi giorni dovrei andare all'Ikea se vuoi. Ok, ok. Se c'è spazio, vediamo anche io e Clara. Un po' mi preoccupa questo tuo piano. Che piano avete? Allora, c'era un pezzo della scrivania. Cioè, avevo preso un perno centrale per tenerla su bene, per gestire il peso. Chiaric, mi porti altri due o tre flint and steel, per favore? Adesso sì. Ho sbagliato e l'ho preso più basso, tipo di 5 centimetri. Allora, la mia grande idea è stata non lo metto. È onesto. È proprio il perno centrale della scrivania, senza il quale... Oh, yes. Mi manca un falò. Salutate il server finché potete. Cosa è successo? Eh, c'era un boschio in mezzo alla strada, quindi ho fatto ciò che fanno tutte... Ah, perché? Ci serve legna. Ho portato un po' di legna in una cesta a casa. Ok, quindi... Mezzo stack di log. Però, purtroppo, questo è il modo più veloce per levarle dai piedi. Perché ti prendo il granito qua? Grazie, grazie, dottore. Chiaric, ce n'è anche della cesta qua in mezzo, vicino alla farm. Di cosa? Di diorite e granito. Ok. E immagino devo farli a quadrato? Oh, sì. Allora, la diorite la fai a slab, lavorata, mentre il granito è a quadrato. Se faccio così... Deve essere levigato tutto? Levigo? Mmh. Tutto leveghi. Un attimo che levigo, ok. Levigo terme. Levigo terme. Levigo terme. Ok, tutto bello levigato. Cosa vuoi a slab? La diorite, che tanto non ci serve la parte sotto. Diorite a slab. Tantissima te ne serve? Boh, tanto andremo avanti all'infinito, quindi, sì. Al massimo io vado avanti all'infinito. Te ne tengo una stack buona ancora. Il granito invece intero? Il granito intero. Passiamo proprio davanti a casa di Eme. Fantastico. Farò un ponticello sul suo laghetto perché non glielo voglio rovinare. Scrivono tutti in chat, non fate metagame. Io non so cosa sia. Cosa vuol dire? Che non dobbiamo giocare a metà, perché non è bello. Ok. Grazie Albin per l'host. Grazie Manuelito del Prime. Andrino del Prime. Robi del Prime. Basta. Beh, direi che ora è tempo di salire un po'. Cioè, noi non stiamo facendo metagame, che io sappia. No, di base no. Ok. Opla. Sto arrivando. Tranquillo, tranquillo, signor Fieri. Arrivo. Eccomi. Io che castroneria che ho fatto. Guardate, questa è la roba che ha fatto il signor Bertra, ragazzi. La bellissima roba che ha fatto il signor Bertra, volevi dire. Quando gli esterni ti dicono cosa succede nel server. Ah, e vabbè, tanto cosa mai mi dicono? Dove sono le ceste degli altri? Tanto non possiamo mica rubarci a vicenda, ragazzi. Se non fosse chiaro. Che ci frega di sapere dove sono le ceste degli altri? Anima ti cerca. Fammi vedere. Povero Emerald, secondo me non vuole questo lavoro che gli sto facendo di fianco a casa. No. Però vorrei che passasse su Discord per discutere della situazione. Dove sei, Bertra? S'ho portata la roba. Sono in fondo al... Tieni. Al cantiere. Vieni, vieni, dove sei? Ecco qua. Se vuoi puoi già mettere il granito sui bordi. Sempre così, allo stesso livello. Solo la carne non si può mettere il pesce. Vabbè, tieni. Ti sto droppando tutto. Devo fare alberi qua. Guarda quanta roba. È troppa, è troppa. Non ho spazio, aiuto. Peggio per te. Arrivederci. No, non se ne vada. Ciao, signore M. Salve. Mi sa che stai invadendo zona, vedete qua. No, no. Stiamo lavorando per la comunità. Questa sarà l'autostrada, signore, del server. Sì. Speriamo che ti piaccia. Se non ti piace, ti sfrattiamo. Quindi, a te la scelta. Sono già stati chiesti i permessi. Sì. Sì, purtroppo abbiamo già chiesto tutto a chi di dovere. Chiedo scusa per Gesù. L'abbiamo chiesto a lui. Vabbè, io le dico, sopra il mio lago non ci vedete passare, c'è un progetto da fare sopra il lago. Posso passare sopra facendo il ponte, sto facendo il ponticello. Ma la linea ci serve, non darle fuoco. No, passaci sotto. Passo sotto? Oddio. Sotto si può fare. Sotto? Vabbè, grazie mille della cooperazione, signore. È un piacere non doverla uccidere insieme alla sua famiglia. Di nulla. Mi sa che io vi ho rubato dei blocchi. Ve li riporzo. Vabbè. Ci metteremo ad ammazzarti, tranquilli. Non è un problema, la vedo dura. Arrivederci. Arrivederla. Gli indiani? Ecco, la nostra autostrada funziona nello stesso modo. Ah, l'autostrada degli indiani. Perfetto. Cioè, se sono carini, si spostano, grazie. Se no, cazzo loro. Dimenti. Vabbè, io torno a insegnare, a giocare a Minecraft. È la mia lady. Bye bye. Oddio. Arrivederci. Ok, arrivederci. Venga, signor Fieri. Vabbè, ma le rails ci stanno bene sulle slab. Non è che danno problemi? Sulla parte alta delle slab è comprovato che ci stiano. Ok, allora qua c'è qualcosa di sbagliato. Ah. Eh sì, qua c'è qualcosa di sbagliato, infatti. Perché sono leggermente stupidino. Eh, ma capita. Sciocchino e scioccherello. Ok. Purtroppo a giocare a Minecraft il pozzente intellettivo ogni tanto cade. È vero. Confermo. Frame droppa? Frame droppa, esatto. Spè che ti do una mano a sgomberare il tutto qua. Eh, dovrà essere un solco largo quattro. E infatti lo sto allargando. Qua ci tocca passare sotto perché il signor Emerald purtroppo ci tiene molto ai suoi confini, ma... Vabbè, ma è giusto così per evitare la guerra civile, dai. È giusto così, non deturpiamo, non deturpiamo. Per evitare la guerra civile per adesso lo stiamo facendo. Poi questo, tutto questo percorso andrà fatto molto meglio con, non so, cioè, potremmo farlo in vetro che si vede da sotto il lago. Vabbè, signori, le cose si fanno per piacere. Se vuoi fare il canale della manica? Esatto, esatto, ci sarà la galleria. Direi che a quest'altezza basta, no? Cioè, oddio, forse no. Oddio, però adesso è una cosa abbastanza bella da vedere. Andiamo a poi ripopolare un po' le mucche. Aspetta, mi passi il granito? Certo, tutto quello che vuoi. C'è neanche nella cesta che ho fatto lì volante. C'è una cesta volante. Ah, qua. Là, l'ho messo un po' di materiale perché erano davvero troppi. Non abbiamo cobblestone a casa? Ah, no. Cos'è che hai detto, Leo? Non abbiamo cobblestone a casa? No, serve per fare i muretti. Ok, eccolo qua, trovato. Leo, aiutaci tu. Vieni ad aiutarci, Leo. Ma stai facendo le... Devo metterla così, Bertra, di fianco? Alla stessa altezza, sì. Che copra. Potremmo uscire i miei occhiali sotto le sue ascelle. Salve, signor Fieri. Tiro dritto. La Riot poteva mandarti la padella delle cada per la nonna, però. Ok. Stupendo, stupendo. Grazie, Jack. Gliela chiederemo poi. Gliela chiederemo. Grazie per i due mesi, Jack. Devo sentire... Grazie Moonfox per il sub. Benvenuto Moonfox. Mano Verde. Sono tagliato cinque punti. A cinque punti mi sono tagliato... Ah, ho capito questo intento. Ti sei fatto male, ok. Niente. Vabbè, Mano Verde. Guarda l'altro positivo. Stai guardando me costruire una brissa d'autostrada? Eh. Oh no, ragazzi. Molto bene. Eh sì, mi serve tanta legna. Oh, la gente non dorme comunque. Ah, sei tu che stai dormendo. No, io non sto dormendo. Io sto costruendo l'autostrada. Io sto dormendo, ne manca uno. Oh no, oh no. Signor capocantiere, è successo un dramma. Cos'è successo? Signor Benetton. Signor Benetton. Cos'è successo? Una falda acquifera. Copri, copri che non si veda. Adesso tappo tutto con il diaglino, così non si veda. Esatto, come la casa dello studente. Fai tutto in sabbia. Perfetto, è tutto risolto, signore. Perfetto. Non posso promettere che non cascherà, però... Vabbè, non importa. Non ci deve interessare questo. Giusto, giusto. Autostrada. Ah, poi ci sarà anche il go-kart per la rotaia? Sì, voglio fare il minecart. Secondo me qui non si vede una ruspa da troppo tempo. Rotate, rotaia. Eh no. Grazie, caro Ventura. In che senso? Prima l'ho suonata. È stata richiesta di nuovo. Devo scendere ancora di un gradino. Qua si smerda tutto, poi. Però grazie di tre mesi. Qui è sospeso, sospeso. Ci sono anche i piloni sotto. Poi faremo anche i piloni, Leo. Una cosa alla volta. C'è una carenza di materiale che purtroppo... Ci limita un po'. Delle autostrade quando si fanno i ponti, i piloni è l'ultima cosa da fare. Eh beh, certo, scusa. Dobbiamo scendere ancora di un gradino qua, Fievic. Sennò si smerda tutto. Ah, scendiamo qua finché... Ok. Ah, vuoi scendere già lì? Allora abbasso di un piano. Faccio loro a fare la casetta. Ah, perché quello c'è la falda qui. Il ferro! Eh, utilissimo il ferro. Incredibile, signor Fieri. Non volevi fare tutte le lanterne? Era meglio che lo prendiato. Eh beh, sì. E anche i mine rotaie, come cazzo si chiamano loro. Il... sì, esatto. Urodaie. Scenda, scenda, no! Non è giusto, quello si è smerdato lì. Ma la domanda, l'autostrada... Ma cosa è successo qua, Fieri? Qua! Oddio! L'uretta, Fieri, l'autostrada va effettivamente verso casa di qualcuno? Sta andando dritta? Ho scelto la direzione in cui ci sono più case. Noi per ora siamo passati di fianco. C'è la casa di Eme, la casa di E-Marine. Eh, poi facciamo le diramazioni in casa. Poi ci sono le diramazioni. Qua si sbatte la testa, signor Bertro. Eh, bisogna fare un po' di alzamento. No! Ah, ok, proprio... Va bene, vabbè, facciamolo a... Poi ci sarà il rifacimento della parete in maniera un po' decente. Eh, per le tasse come... Per adesso tappiamo. Cos'hai detto? Per le tasse, le cauzioni, tele... Poi bisogna pagare per l'accesso e tutto. Fieri, vieni qua che c'è un sacco di diorite e di granito utilissimo. Presto, presto! Soprattutto il granito. Zappa tutto il granito. Fieri, chiedo a te, sbaglio o c'è un modo in cui posso far triggerare dei blocchi buttando un determinato blocco dentro un dispenser? C'era una roba del genere? C'è che tu metti il dispenser che si attiva solo... Cioè, a parte l'impulso di Redstone, solo se viene messo dentro un determinato blocco? Oddio, sicuramente c'è qualche metodo, però non te lo so dire. Perché sarebbe figo fare l'entrata con un meccanismo che si apre solo se tu butti dentro una... Sì, ma penso tu debba fare... Un diamante, un petto di ferro. Penso tu debba fare una sorta di filtro mettendo una tramoggia che è piena soltanto di quel materiale in modo tale che tu non possa mettere gli altri, comunque gli altri non vengano filtri. Vado, non lo so, sicuramente c'è il comparatore. Dicono in chat. I filtri... Prendi qua, Fieric, prendi tutto questo. Guarda qua. Se no ci può fare, ci può fare. Sto prendendo, sto prendendo. Madonna, è la più grande falda di granito del server questa, non finisce più. Sì, effetti, sì. Io l'inventario pienissimo, però... Madonna. Raffinalo tutto. No, sta volando giù la sabbia! No, no. Cazzo, aspetta, fammi vedere com'è sopra. Le ruspe, ecco! Cioè io sono dovuto scendere perché sennò andavamo a toccacciare le cose di Eme. Oh, è tutto scuro. Il fiumiciatolo. Stiamo fermi ad aspettare mentre suono. Madonna, quanto granito, per l'amor di Dio. Oh, visto che ci tenete tanto. Ecco fatto. Abbiamo suonato. Vorrebbe bastare? Oh sì, dai, vedi anche basta. Ah, fammi vedere. Eh sì, vedo che da qua sopra è scesa un po' di sabbia, ma tranquillo, tappo io. Tappa come se non fosse successo niente. Vai, vai, nessuno se n'è accorto. Facciamo un po' uma-uma. Oh no, Piglin ha ucciso Stepplin. Ai ai ai. Stepplin. Stepplin. Stepplin ha perso tutto. What are you doing, Steppni? Madonna, ho fatto la battuta. Dobbiamo prendere anche la diorite? Eh sì. Scusami, come si chiama quest'altra? L'andesite. No, l'andesite fa schifo al cazzo e nessuno le vuole bene. L'andesite è brutta forte, in effetti. Ma l'andesite è brutta e basta. Non so perché qualcuno abbia deciso di farla. Donna, quanta diorite anche. Ottimo. Ma come mai avete scelto... Cioè, che studio avete fatto urbanistico per scegliere la diorite come materiale per l'autostrada? Mi piaceva il colore. Ok. Perché il dubbio era diorite o blackstone. Però la blackstone mi sembrava troppo scura. Eh beh. Qua voglia soltanto le cose chiare e bianche. No, no, no. Ti ci vedo di notte che stai andando in autostrada e la perdi. Oh no. Beh, noi abbiamo fatto la stessa roba più o meno con la nebbia, quindi siamo esperti, no? Sì, beh, è vero. È sparito il blocco da davanti. Una volta, Fieric, con Bertra, quando siamo andati a Lucca, tornando a casa stavo guidando io e c'era una leggera nebbiolina in autostrada che mi faceva vedere a due metri da me. Eravamo in autostrada ai 30 km orari con Bertra che mi diceva dal navigatore quando c'erano le curve e io le facevo senza vederle. Fantastico. Al certo punto c'era una curva non segnata. Io stavo finendo dritto se... È stato molto divertente. Quindi mi sono potuto fermare. E realmente dietro le nostre ragazze che entrambe dormivano. Dormivano, tranquille. Vabbè. Si sono svegliate giusto quando Leo ha fatto la pausa pisolino in... No, no. Allora, siamo arrivati... Ragazze. Ragazze, stiamo arrivando... Siamo quasi arrivati a Milano. Clara, la mia ragazza si sveglia e fa... Eh, io mi sono appena addormentata. Eh, certo. Ma se nemmeno ci hai visto uscire da Lucca. Ci abbiamo messo tipo quattro ore quanto ad arrivare lì. Madonna. Madonna. Ma veramente era... Pesantino come viaggio, devo dire. Lo rifarei. Sì. Soprattutto, diciamo, il punto è... La Punto non aiutava. La Punto ha fatto tutto benissimo. No, ho sbagliato. Sono un cretino. Non puoi usare i blocchi per fare quello anzichemente i doppi slab? No, no. Aspetta. Vabbè, sì. Tanto non cambia niente. Vabbè, ti risparmio un po' di fatica. Vabbè, tanto qua ora andiamo dritti. Guarda che qua vola giù tutto, eh. Ma va, dobbiamo fare un'altezza standard. Io direi... Cos'è qua? Tre blocchi? Tre blocchi di altezza ci sta. Oh, mi mancano quattro casse. Ecco. Aspetta che tappo. Tappo io, tappo io. Ok. Visto? Si tappa con la dirt e via. Esatto. Proprio come all'Aquila. Non ce l'ho da fare quattro casse. Gente nella mia chat super lanciata che fa Eme si è trovata una ragazza quando è che ti fidanzerai? Beh. Ma... Che dire, ragazzi. Ma cosa vuol dire? Benvenuti agli ultimi due anni di vita. Bertra, t'ho fallito senza la ragazza. Buu. Hai ragione. No! Cazzo di che Dalia è un amante. Siccome dobbiamo andare più giù. Dobbiamo andare più giù qua. Possiamo ricostruire. Andiamo troppo giù. A casa! A casa! A casa! Che è successo? Lì o sei venuto? Ho trovato quello che mi serviva. Ma che merda la sabbia. Ma che vergogna. Dovremmo andare più giù, Bertra. Ma perché stiamo continuando? Cioè, se andiamo avanti così, Dovremmo tappare di continuo. E quindi è divertente tappare. Ma no, ma che palle. Vabbè, se vuoi vado sopra e tappo da sopra. Faccio un'altra... Faccio un'altra chest midway Per metterci materiali extra Perché ne abbiamo parecchie. Puoi andare più giù, Bertra? Schiamiamo più in basso. Così non dobbiamo tapparlo in due secondi. Uno, due, ta. Tutti i materiali non raffinati Così poi li possiamo raffinare. Perfetto. Non so perché ho fatto cinque chest, però va bene. Bertra, vai giù! Sì, sì, vado giù di uno ancora. Ecco. No, no! E questa io non posso attaccarla, la giù diretta. Ma posso attaccarci la catena E attaccarci questa. Ma è questo gioco bello. Ne abbiamo già parlato del fatto che ti piacciono le catene, ok? Io li attacco su chi voglio. Bertra, mi sa che... A parte qua sta sgocciolando da sopra. Non è bello nell'autostrada vedere che sgocciola tutto, no? Eh, vabbè, poi si risolverà quello. Ah, sì, sì. Non è mai stato un problema il fatto che sgocciolasse dentro un'autostrada. Sì, sì, sì. Vabbè, dreniamo il fiume di Emerald. Non è un problema. Sicuramente potevamo iniziare a scendere da qua, onestamente. No, no. Dai, stacchiamo tutto. Ci mettiamo due secondi. Ok. Dai, da qui. Scendere ancora? Sì. Scendere da qui. Vi sto inserendo ogni due. Scendiamo da qui. Bertra, la tua ragazza mi ha appena scammato. Cosa ha fatto? Con Dalia ero d'accordo per il tatuaggio, il 19. E adesso mi ha appena scritto Ok, ok, ti confermo il 21. Non ho capito niente, le ho ridi tutto. Con Dalia ero d'accordo per fare il tatuaggio il 19. E mi ha appena scritto Ok, ok, confermato il 21. Non mi ha mai parlato del 21. Mi dispiace, Leo. Così impari a farti tatuare. Drogato. Abbiamo anche il magazzino. Sfigato anche, aggiungerei. Esatto. Cioè, tossi. Tutti quelli che si tatuano sono tossici. Esatto. Allora. Su League of Legends. Come quelli che giocano a LOL. Incredibile. No, l'Undesidero stiamo tirando su. Che schifo. Eh, quella c'è. Quella passa al convento. Oh, un altro filone di granito. Rompi, rompi. Madonna. Perché passa l'ambulanza? Nino, Nino. Nino, Nino. Oddio, Leo. Mi è venuto uno di quei flashback di quando tu dicevi da chi è che passa l'ambulanza e passava da tutti e due. Noi poi facevamo, ah ah, che ridere. Oh, che carini che eravamo. E poi facevamo sesso. Beh, quello lo facciamo comunque, no? Sì, ma non più come una volta. Non mi vedi più con gli occhi dell'amore. Eh, lo so. Ormai non sei più lo stesso. Giusto. Io non so la storia, ma vi credo sulla parola. La parola di Yahweh? La parola di Gesù. Puoi tappare l'acqua che qua sto negando? Sassi. E la sto tappando. Eh? Voglio i sassi. Cazzo, sembra di essere a Venezia. Oh, grazie. Ahia, la sabbia mi ha picchiato. Eh, vedi? Te la prendi? Eh, beh, ma niente. Spazio, spazio. Belli. Senti Fieri che non rompe e scava. Basta! Eh, sto scavando, ma qua... Oh. È porco de bonio ancora. Vabbè, intanto portiamo questi qua. Sì, ma qua è una tragedia, ragazzi. Ci siamo scelti il punto più bello. Ma tu l'hai scelto. È colpa tua! L'autostrada deve andare dritta, non è colpa di nessuno. Eh, io tappo, usi impari, ecco. Sassi, sassi, sassi. Guarda, giù tu. Ma cosa fai, criminale? Sto prendendo il granito qua. Stai prendendo il cazzo, stai. Guarda quanto ne ho preso qua di granito. Siamo pieni di granito, Bert. Nulla. Buono, buono. Basta! Eh, ma purtroppo andrà così avanti per un po', perché... Sì, belli. C'è tutto questo sweet, sweet di orite proprio in mezzo qui. Ma tu, Leo, cosa stai facendo? Sto mettendo adesso a posto il magazzino che ho appena finito. Mamma mia. Ok. Leo sta facendo ancora più sbatti di tutto. Leo, puoi fare tipo gli item frame da mettere sulle scatole così... Ah, ok, va bene. Ci metti tipo... Ho fatto dei cartelli, però facciamo anche gli item frame. Non ha problema. Ma perché con l'item frame è più bello, vedi l'oggetto piuttosto che la scritta. Perché c'è la scritta sassi belli e sassi brutti. Eh, vabbè. E, ok, ecco, nel cartello sassi brutti ci metti le item frame con la di... Come si chiama l'andesite. Ecco. La donna l'andesite che è materiale del cazzo. Ma l'andesite va nei sassi belli. No, l'andesite va nei sassi de merda. Va nei sassi brutti l'andesite, mi dispiace. Ok, l'andesite è sassi brutti. Lo sai benissimo, Leo. Inutile che fai la vocina così. Non piace... Non piace neanche a sua madre l'andesite. Ma era bella! Ma non è vero. È tipo l'amico... L'amico che nessuno vuole della diurite e della... Allora, quella... Come si chiama quella rossa? Il granito. È il granito. Ok. Sì, qua giù. Qua giù. L'andesite è bellissima, oh! Il granito fa cagare. Siete dei criminali. Sciocchi. Sciocchi. Scioccherelli. Che poi qua bisognerà fare un altro blocco di apertura. Perché se no tutti i moretti si attaccano al fianco. E fa schifo al cazzo. Questi mi servono all'ora e vado a trucidare... Ah no, le moche non posso trucidarle. È vero. Spero di avere abbastanza pelle. Rompi, rompi! Vado a mettere un po' di moretti. Qua sarebbe da fare il beacon. Però mi sa che ci vuole un po' di tempo. Minchia. Oddio, no. Non li metto i moretti. Li metto un po' a caso i moretti, giusto per averli, ma... Siamo in una situazione... Io vi chiedo... Aia! Ho guardato adesso la chat. Ci sono i mates che sono entrati da poco sul server. Stanno giocando. E come prima cosa... Vegas vuole catturare un polipo. Il polipo è perplesso. Onesto. Vabbè, l'importante è avere le idee chiare. Senti, le orientai non si fanno da soli, ok? È vero, anche quello. Poldo ha quittato. È rimasto talmente scorso dalla notizia che se n'è andato. Povero poldo. Povero polodo. Povero polpo. Ti faccio un blocco bello. Ah, ecco perché ha quittato, dici? Dico. Dove sei finito, Bert? Eh, sto mettendo un po' di moretti sopra. Così, giusto per averli. No, giusto. Comunque prima, quando non c'eravate, ho chiesto in chat chi vuole fare un'autostrada. Nessuno mi ha cacato. Chi vuole fare un'autostrada? Amici? Dai, per favore, facciamo l'autostrada. Che parli quando chiede agli amici di fare l'autostrada, nessuno ti risponde. Mi ricordi D'Lars. Quando chiedi di fare qualcosa. Quando entra? Boh? Ma D'Lars non doveva entrare sul server? Doveva? Non lo so. Paris è stato ucciso da 9. Niente. Iniziano le faide. È andata. Bella lì, raga. È stato bello finché il server è... Aia. Finché il server è al server è stato server. Ha ucciso quello sbagliato. È finita, è finita, ragazzi. Vabbè, bella lì, raga. È stato bellissimo giocare tutti insieme. È stato bello giocare tutti insieme. Adesso... La casa di Nova fu la prima a andare a fuoco. Minchè, in effetti... Sono... Sono... Non rubarmi i cavalli. Ah, ci sono dei furti. C'è un po' di ahumma ahumma qua. Penso siano ufficialmente i due più per... Penso siano ufficialmente i due più per malosi del server, quindi... Potrebbe essere grave. È molto grave, molto grave la cosa. Molto grave la cosa. È molto gravel? Sì. È quella che mi è cascata in testa, sembra. Abbiamo... Ha fatto il meme, ha fatto il meme. La terracotta è brutta... No, non è vero. La terracotta... Alcune sono carine. È andata, andata, ragazzi. È stato bello. Un bel server. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti finché è durato, dai. È finita, ragazzi. Bertra! Mi cagliate il titolo in Pandora l'ultimo giorno. Dai, muoversi con lo scavaggio qua. Eh, sto facendo lo scavaggio giusto per non avere i blocchi che toccano il bordino. Ci sono anche delle grotte qua. Bisogna fare pulizia contatti. Pugno qua... Ah, pure la pulizia contatti. Eh sì. La pulizia contatti. Sto registrando, sì! Ultimo giorno di Pandora. Adesso pure in chat ci chiedono di passare da loro con l'autostrada, ragazzi. Ma da chi? No, in chat dicono, è passata da me che aspetto la Cispa d'Ana da vent'anni. Eh, vabbè. Purtroppo le infrastrutture qua su Pandora sono un conto. Ma quanto stiamo andando avanti, aspetta? Siamo ancora nel lago? Non lo so. Eh, a parte... Ok, così così... Effettivamente potremmo controllare. Dimmi che sei ossessivo compulsivo senza dirvi che sei ossessivo compulsivo. Oh, quasi! Ci siamo quasi, Bertra. Mamma mia, non ci credo. Non vedo l'ora di finire, di risalire all'aria aperta. Manca pochissimo, anche perché qui sono stancato qua di... Di rompere tutto. Di zappare? Eh, ma vedessi quanto sono andato avanti. Eh, io ho fatto la roba più noiosa di mettere tutti i bordini del cazzo a norma. Eh, sì. Qua la precedente impresa aveva fatto tutto a cazzo di cane. Eh. Incredibile. E' sempre un problema, è sempre stata la precedente impresa. Eh, sì. Senta, signorino, la smetta di fare il brillante. No, ma chiedevo, chiedevo. Qua c'è un sacco di cobblestone, però non ho spazio, Bertra, quindi... Ci sono le ceste, ci sono le ceste. Guarda, te ne porto un paio. Ma vieni a prenderla tu, guarda quanto... Ok, ok. Che ore? Che ore? Che ore? Ma no, ma gioco di merda, allora. Che ore? Che ore? Madonna, ma che bello! Tic, 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 tic. Nella quale è il diritto di schiantare tutta la merda. Illuminiamo che se no qua spawn agente. Ma non è vero, ma magari spawn agente. Sì, in effetti. Spawna un cazzo qua. Alla cesta delle uova anche. Allora, metto tutta... Ma io scavo i bust e tu piazzi? Facciamo così? Va bene. Secondo me potremmo già riniziare a salire. Verde. Adesso ce l'ho un'occhiata, aspetta. Uovo. No! Verde, verde. Ah, ci faccio il casino. Dopo facciamo anche la farm di esperienza. Sì, sì, si può risalire. Confermo. Perfetto. Allora ti direi di ricominciare a salire. Facciamo sempre di due la salita? Ogni due si sale di un blocco? Sì, sì, sì. Teniamo un po' di coerenza. Giusto, giusto. Ecco qua, ragazzi. Si sale! Grazie, Riccardo! Ah, poi alzerò ancora di nuovo. Grazie, Gandhi, per i due mesi ben tornato. Grazie di sabre, ragazzi, utilissimi. Questo barile diventerà il barile uova. Nei barili mettono gli item quelli un po' inutili e diversi, mettiamo così, tipo il barile barca, il barile uova, il barile... Come per finire lei. Non hanno un'utilità di per sé veloce, però magari possono servire in futuro. Minchia, che brutto. Solo alto 2 facciamo. Eh, infatti, io lo voglio fare alto 3 almeno. Ok, ok. Eh, ho paura, dovremmo tappare un po'. Eh, vabbè. Vabbè, qua rompi tu, intanto ti faccio la salita. Allora. Ok. 3 in vetro. Mmm, la terra. Vegas abbandonato, si unisce. Pianta, 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 pianta. A questo punto sotto terra potremmo mettere anche le slab di granito. Che senso, ragazzi? Cazzo state dicendo? A posto. Uovo, pianta, pianta. Ah, è vero, sotto terra potrei mettere le slab di granito, vabbè. Uova. Ormai. A posto. No, che poi allargo anche di lato. Ok. Guardate, ecco, quanto arbo ho preso. Leo, con mending sul piccone, cos'è che mi serve per curarmelo un po'? L'experenza. Ehm, parma a carbone. È la roba più veloce. No, vai a prendere il quarzo nel nether. Sì, infatti. Se non ci metti degli anni. Oh, guarda qua quanto ce n'è, però. Altra... Vabbè. Non volevo mettere la torcia, mi scusi, ma lei è veramente volgare. C'è del granito qua, Bertra, se vuoi. E mi sa che lo vogliamo. Dico, bene? Beh, sì. Tutte le risorse che possiamo prendere. Vai, prendiamo. Io non ce l'ho ancora, mending sul piccone, effettivamente dovrei mettermelo. Eh, abbiamo i libri, ci vuole un cazzo a farlo. Se solo la mia farm funzionasse. Chiediamo tutti di slogare. Scusate, potete andarvene per 20 minuti. Gentilmente, levatevi dai coglioni un secondo. Un secondo uguale 20 minuti, più o meno, perché... Lo spawn rate di questo server non è basso di più. Ah, no, ma è alto 2. Eh, ma adesso si amplia tutto. Ma purtroppo inizia la terra, è un casino. Ok. Non si possono fare farm zero tick, ragazzi. Mi dispiace. Mi spiace un ordine. Nelle regole del server. Oh, no. Tac, tac, tac. Ok. Che è successo, D'Esta? Che se mi faccio una cesta apposta? Cazzo sto facendo io. Non lo so. Questo va qua. No, è giusto. Ma perché oggi sono stupido? Ok. Forse ho trovato un ordine. Qua devo... Devo incentare tutto, cazzo. Una volpe! Ma in realtà questa cosa, se ci fosse il full supporto di tutto il server, sarebbe velocissimo. Eh. Oh, siamo fuori. Siamo fuori? Dio, grazie. Non importa. L'importante è essere fuori da questo incubo. Ah, ma... Eh, notte. Ma si fermi. Ma cribbio. Noi stiamo lavorando anche per lei, signor scheletro. Ok, fatti. Allora, Dalia intendeva questo? Questo qua vicino, giovedì? Non lo so, Leo. Hai portato il flint and steel, Fiemic? Per il tatuaggio, eh? No. Però c'abbiamo la gravel. Sotto di una sistrofina, i miei occhiari. No, ero per distruggere gli alberi. Tutti, i suoi asceni. Cibo barca. Dov'è la barca? Barca, eccola lì. Sono proprio in mezzo al cazzo questi. Sì, in effetti. Prima ho dato fuoco a tutto ed è stato rapido e indolore. Se ne va da lei. Barca? Si deve inchantarmi tutto, ragazzi. Ho effettivamente messo un po' quelle pezze al culo. Pezze al culo! Al culo! Culo, sì, dillo ancora. Culo! Oh, sì. Così, così e così. Ok. Portiamo di là. Allora, andiamo un po'. Fieric, non litigare con i vicini. Ne abbiamo già parlato. Eh, ma è un bambino. Il cibo crudo qua sopra. Fieric, non picchiare il bambino dei vicini. Eh, subia. Riccardo, sei un mariuolo. Ma è un bambino. Ah, zombie in merda. Fai una cesta del cibo crudo e una cesta del cibo cotto o butta tutto dentro assieme? Tutto assieme. Magari coci quello crudo, così non abbiamo di questi problemi. Ok, ok. Mi sembra un'ottima idea. Incredibile. Oh, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Tac. Tac. Ottimo. Stupefaccia. Vi ha lasciato una quantità di materiali indietro incredibile. Ok, questo qua va. Te la farmo qua. Sto un po' rompendo qua che non so com'è, eh. Lasciate così appunto. Adesso forse potremmo fare i più cose. Quindi devo rompere i lati anche? Eh, sì. Perché fai alto 2 come avevo fatto io. La Nintendo Switch? No! Oh no, lo scappo. Divieto di navigazione. Siamo in casa di Di Marien. No! Cosa? No! Fammi vedere! Come se siete arrivati sotto casa di Di Marien? No, sopra. Cioè di mezzo. Aspetta, fammi vedere. O facciamo un ponte bello alto. Però dovremmo chiederle se le fa bene. No. Tocca tornare giù, Bert. No, no. Staviamo sopra. Ma dov'è lo spawn, scusa? Eh, di là. Dove stai andando tu? Per chi la stiamo facendo la strada? Perché le case sono quasi tutte qua, se noti. Qua c'è un buco, signor Bertra, con ste cazzo di slab. Dove c'è un buco? Qui c'è un buco. Di slab. Vai a dire. Ah, sì. Ebbè, certo. C'è sti lavori. Fixato. Rompiamo tutto qua. No, no. Grazie, Filippo. Grazie, Filippo. Passare sopra. Grazie anche a schifezza. Le mando una foto sul... Benvenuti, ragazzi. Grazie anche a Sammy. 076. Nether. Nether. Belli. Materiali belli, materiali belli. Ok, quindi devo rompere anche i lati qua. Allora, raga, posso chiedermi una cosa? Lavoro. Voi avete pecore? Sì. Ne abbiamo tre. Ma come tre? Eh, ragazzi, da spostarle c'è stata un po' una decimazione. Vabbè, ma fa le riprodurre, Leo, che cazzo. Eh, sì, per farle riprodurre. Posso prendermi un poco di lana? Va bene. Eh, ok, va bene. Ve le faccio riprodurre io, cazzo. Abbiamo... Giusto. Sì, tre esatte. Ok, va bene. Allora adesso ve le faccio anche riprodurre. Mi sembra un'ottima idea, va bene. Ok, va bene. Raga, chiunque stia consigliando di curvare, il glorioso progetto dell'autostrada non curva per nessuno. Non avete capito un cazzo. No, le curve, no. Al massimo si fanno le uscite. Sì, ma poi... Allora io adesso mi sa che faccio il glorioso... Il glorioso muretti. Ma i marini non c'è, vero? Non è online al momento. Le ho scritto. Bravo. L'hai mandato alla dick pic? Ma no, signor Fieri. Chiedevo, chiedevo. Ma signor Fieri... Te lo chiedeva perché non devi farlo. Esatto. Per quello. Se l'avessi fatto, ti avrei riportato il canale. Non si riporta il canale. Allora. Madonna, Eme, eri già qua? Pronto, eh? Se lui li aspetta... Cioè, lui è arrivato a casa nostra, poi ha chiesto. Ma quanto lagga ogni tanto, per l'amor del cielo. Nera, mattoni... Ok. Ok. Ho sei stack di muretti. È tempo di completare tutti i muretti che non ho messo. Ma hai ventiquattro... Eme? 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 Smutati. Eme? 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 Scrivili in chat, magari, se è mutato. Cos'è che è successo? Perché... Sto guardando Eme. Eme... E... E... TDS. Eri discorso, sto guardando Eme e gli voglio chiedere una cosa. Figlio di puttana. Prontone? Ho una domanda, Eme. Sì? Di cosa hai fatto l'armatura che stai indossando? Ferro. E i 24 diamanti che ti ho prestato? Ma io sono... Ah, voi non siete della mia sciagura? Eh, no, io so che tu hai un debito come di 24 diamanti. Ah! È vero. È vero. Eh, ai ai ai, signor... Io questo so, Eme. Sì, io ho avuto la sciagura che è... Sono morto in un bastione e torno e tutto ho esponato, stranamente. Ti dico solo questo. Quindi, sì, ho perso tutte le ricchezze anche delle bastioni, eccetera. Eh, io sono una banca, non è che mi frega adesso i sciaguri. Non ce ne frega un cazzo, infatti. Allora, io non sto parlando con Leo, quindi signor Bertra, lei... Io faccio parte della stessa banca e dello stesso... Eh, esatto. Cioè, è inutile che fanno... Qua siamo la famiglia Benetton, non è che puoi fare quello che vuoi, eh. Va che abbiamo bisogno... Stiamo facendo i piloni adesso, quindi abbiamo bisogno di un sacco di materiale riempitivo per i piloni. Se no, guardi che il progettino che passa sotto il suo laghetto potrebbe magicamente passare sopra, eh. Vabbè, guardi, come piloni potrebbe esserci anche della TNT messa in mezzo. Non penso sia per i materiali da costruzione, eh. Eh, appunto, lo so. Se è così chiedevamo... Eh, lo so, lo so. Lei non è proprio bravo con le costruzioni, guardi se lo faccio a dire. No, 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 mi dispiace. Ma comunque vedo che siete velocissimi. Eh beh, ma si lavora, eh. Siamo una forza lavoro, siamo tutti del nord, più o meno. Quasi. Io sono del nord Africa. Eh no. Però è sempre nordè. Sempre nordè. E sono tutti nord, ma di diverse categorie. Sì, esatto. È giusto. Tic. Ecco. Tic attac, tic attac. Guarda, Bert, c'è un sacco di materiali, sei felice? Io ho chiuso il muretto quasi fino... Cioè, sono all'ingresso della... Della corridoia. Ok. E i marini non ha risposto? No, mi scudo. Facciamo il raid alla pagina Instagram. Bella, madonna. Ok. Cioè, non c'avrà da fare. No, Tievic, non hai liberato il lato qui. Cosa non hai liberato? Il lato del muretto. Se no si attacca alla parete e fa schifissimo. Ma dove? Sì, la cesta lì. Là davanti. Oh no, le torce. Ma lo sto facendo. Eh, ok. Non vedi? Dove decidere di mettere qua dove metterle. Cos'è che non ho... Dall'altro lato? Eh, vabbè, devo farlo ancora. Sono comunque più efficiente di te. Ma non è vero. Sono una macchina di guerra. Oh, frecciatine! Polano frecciatine qua! No, è solo la cruda verità. Ma non è vero, signor Fieri. È solo la cruda verità. Lei è soltanto manovalanza in questo caso. La prego di astenersi da commenti. Campa da pesca qui. E' sergio sfruttato, come in Africa. Eh no, no. Questa è la storia si ripete. Questa è la maxistoria di come la mia vita è cambiata sotto sopra capovolta e tutto. Ah, lavoro qua. Un'altra caverna. Queste sono le uova, non ne ho bisogno. Barco, non ne ho bisogno. Cibo. Cibo, cibo, cibo. Prendo il carbone per livellare. È il massimo che posso fare per adesso. Devo accontentarmi. Ah. Nella vita bisogna accontentarsi. Bene, andiamo avanti. Animale. Ci metto i mob. Comunque siamo veramente veloci. Guarda qua. Mamma mia, fenomenale, fenomenale. Petro. Servono le torce, Bertra, le hai? Sì, 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 aspetta, tieni. Sto registrando. No, mettile tu, io continuo a scavare qua. Ah, ok, ok. Ti do uno stack in ogni caso, tanto ne ho... Va bene, va bene. Allora, qua deve essere a filo, sì. Ok. No, 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 gioco, che cazzo. Magari lo faremo tutto preciso un giorno, ma quel giorno non è oggi. No, oggi non è quello il giorno. Un giorno faremo tutto proprio... Con i crismi, ma no, no, oggi sì. Ok. Si esce. Ecco, fa. Dai, direi di passare sopra a casa di Heimarin, non penso. Cioè, è un latino solo. Non è niente di grave, no? Giusto. Ma di chi è quella casa assorta di torre con il vetro e la pietra? Dei mates. Mi sembra, non lo so, un razzo capovolto. Un razzo missile? Sì. Con circuiti di mille valvole? Le torce! Arrivo, arrivo, signore. Anche qua il progetto, cazzo, bisognerebbe metterle giuste. Aspetta. Dove è andata la chest? I blocchi per... Eh, sono nascoste. Illuminanza. Ok. Ecco qua. Sa che farò un salto a casa, mettere cuocere della roba. Sì, sì. Prego, prego. Vai, ti lascio... E intanto aspetta che faccio il granito qua. Eccolo. Così, così. Se poi porti un po' di flint and steel, è utile se troviamo altre foreste. Così. Va bene. Lo vado a prendere. Intanto bisognerò gli effort bellici. E tu andavi nella chest nether. Eh, I guess che qua bisogna salire, ragazzi. Si va sopra il laghetto di Aymarine. Che poi devo anche livellare, sono le 29. Quindi, magari livello e mi incianto qualcosa. Ok, queste qua sono fatte e posso toglierle. Poi dovrò riarredare l'entrata di casa. Perché adesso non essendoci più le ceste e tutto quanto, si è andato a svuotare. È vero. Ah, oltretutto ci servirà anche l'oro. Perché bisogna fare anche quelle empower. Un sacco di empower. Eh sì, un botto. Tantissimo oro. A sto villaggio, secondo me, possiamo anche distruggerlo. Tanto è già disintegrato di suo. Vabbè, ma è parte dell'ambiente. Ah, sì, sì, capisco. Cinque. Un, due, tre. Grazie, turno al cover per il Prime. Ed è anche il monito per chi non vuole far fare la vostra strada. Jim Bonvino, grazie mille. Filippo, grazie mille. Grazie il sub, ragazzi. Cinque. Scusate se leggo un po' con la chat, ma lo sapete. Cioè, quando faccio la Pandora S&P che sono con gli altri, le leggo un po' meno. Ovviamente. Quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque. Ho troppo nether. Scusate se parlo come se stessi imparando a contare fino a cinque, ma è una roba... Ma è difficile, lo so. È difficile. Non è per tutti, eh. Quattro e cinque. Ok, perfetto. Quattro e cinque. Quattro e cinque. Quattro e cinque. Quattro e cinque. Lo si dà andare lassù. Mamma mia. Maestosa la galleria illuminata. Vero? È un buon alla vista. Buona alla vista. Molto saporita alla vista. Le robe oro le metterei sotto. Qua ce n'è tanto di carbone, vedo. Minchia, quanto carbone. Eh sì, ho fatto un bel po' di livelli quando non potevo andare nel nether. Beh, io lo fillo allora. Dominanza, dominanza. Fai il filler? Fillo il carbone, sì. Il cremisi. Ah, eccoci qua. Fungo cremisi serve a qualcosa di per sé? Passione? Il fungo cremisi serve a far riprodurre i pumba. Ok. Tolto quello non credo. E noi vogliamo far riprodurre i pumba? Io l'ho già fatto. Vogliamo i filmini hot con i pumba? Non lo so. A questo punto li dividerei allora tra cose cotte e cose crude. C'è una freccia nella nostra farm. Cose verdura. Per quanto motivo. Ah, la farm di cose? No, c'è una freccia attaccato ai bambù. No, no, proprio nella nostra fattoria qua. Quindi qualcuno ci ha voluto mandare un segnale, mi sa. Sì, qualcuno ci ha mandato un messaggio un po'... Qualcuno ci ha mandato un messaggio un po' intimidatorio qua. Verdura. Una freccia attaccata al bambù. Chi è stato, ragazzi? Non io. Forse potrei essere stato io, non lo so. Mi è nel dubbio. Se sei stato tu, sei molto speciale, fattelo dire. Forse quando ho cercato di decidere la volpe? Ah, chi è questo? Ma sei tu, Leo? Mannaggia, quanto sarà un parto questo, Fieric? Mamma mia. Ma no, dai. Siamo già a buon punto. Eh, no, il ponte, dico. Ah. Il ponte... Ponte di Gevano, va? Ponte Morandi? No, no, niente Gianni Morandi. Allora, bisogna di materiali normali, non più di questo. Ah, stai dicendo che ci sono materiali non normali? Madonna, Leo. Ti faccio... Molto male, molto male. Ok. C'è dei secchi. Ok. Allora. Faccio provare un po' di animali qua. Gli archi. Ma guarda come sta sistemando tutto. Polli... Bravo, Leo. Così mi piace. Ci mettiamo anche l'alveare qua? Con le api le facciamo a parte. Tipo l'alveare qua attaccato. Facciamo a parte perché dovrebbe andare chiuso o no? No. Ah, si può fare aperto? Sì. Hai pensato di fare proprio una roba chiusa a parte? Si può fare però. Così le api... Tanto le api tornano all'alveare, neanche le perdiamo. Ok, ok. Bene, va bene. Però per ora magari si può fare lì e poi spostare dopo. Vabbè. Quanti polli! Ah! Con la vanga! Con la vanga! Ma no, non prendere apiccolate, avangate i polli. Sto prendendo avangate i polli. Ecco qua! A morte i polli! Direi un altro paio di piani. Strage di polli, ragazzi. Oh, livello 30. In casa di Marine. Per adesso. Poi quando passa l'autostrada. Eh, vabbè. È il progresso quello. È il progresso, sì, sì, sì. Assolutamente. Alla cesta del cibo, qual è tra queste? Allora, a sinistra qua. Sono qua, Feric, questi barili qua. Devo adesso ancora metterci le cose. Queste qua sono tutte cose in giro da cibo. Ah, ok. Cibo cotto mi pare che è qua... No, scotto è qua su, in alto. E ti piace più il dolce o il salato? E scotto è qua su in alto. E scotti invece? Devo ancora metterci i frame là perché non ho più pelli di mucca, ahimè. Ecco qua. Non ho più i capelli di mucca? No, non ho più i capelli di una mucca. Grazie, Legendary Rams del Prime. Benvenuto, caro. Grazie mille. Ah. Ci vai tu. Ci vai tu. Madonna, è tutto magico, è tutto magico. Adesso arrivo anch'io, Bertrello, semplicemente. Aspè che dormo, già che ci sono. Non ti preoccupare, io sto facendo... Vuoi dormire, Leo, così facciamo passare il giorno? Arrivo due secondi. Ma come uno su tre? C'era già uno su tre. Eh, no. Adesso ti torna. No, no. Vediamo, vediamo, arriva, arriva. Ech! 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 Salute! Ech! 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 Mettetevi tutti a vipavo! Devo fare... Dai, Bertre, tira fuori il letto e dormi lì. Non c'ho il materiale per farmolo. Dai, dormi sul granito. Bene. Normo sul granito, secco, giù. Sei un uovo vero. Un uovo vero sono? Un uovo vero. Ottimo uovo. Ma sapete che faccio io qua? Qua diventa veramente una roba matta. Allora... Matta, fratm. No, no, fratm, non hai capito. Qua faccio proprio la panoramica che passa sopra a casa di Amarin, ma proprio ampiamente, e passa di fianco alla casa dei mates alla stessa altezza. Diventa una roba matta. Fantastico. Mi piace. Leo, dove sono gli smeraldi? Sono nella cesta... Eh, ce l'ho io qua. Ce l'ho io in mano. Me li passi, per favore. È scoppiato un creeper di fianco ad anima. Ce n'è un altro, signori. Andiamo fin qua, Fieric. Ok. Oh, grazie. Quanti smeraldi. Libri ne abbiamo? Madonna, l'ho ucciso io con l'arco. Non lo so, non penso. Io non l'ho tirato su finora. Ma come no? C'è del cuoio, almeno? Eh, no, l'ho usato per fare le cose. Come qua c'è un flagello degli antropodi, direi che possiamo, o antropodi o quello che è, lo possiamo disinchantare. È la madonna quanto cuoio. Ok, ne abbiamo, ne abbiamo. Ne abbiamo, cuoio? Sì, sì, sì. Oddio, allora portamolo dopo che mi serve un bel po'. Ne abbiamo anche tantissimo. Bisognerà anche fare i supporti per il ponte. Per le redstone. Allora, aspettate, mi serve la carta. Questo è per le redstone, per i... Ma tanto bello. Leo, ce l'hai della... Ah no, l'ho trovata la carta, ok. Ce l'avevo qua comunque in caso di serviva. 20 libri penso che basti. Carca. Cominazione. Blocchi generali. Generale. Questo sarà pozione. Ok. Dunque. Tempo di fare un po' di trades. C'è un test schifo. C'è un test schifo, ci va dentro di tutto. Ok. Credo che questa altezza va benone. Questa qua sarà la test lana. Eh, Leo, c'è quello che... Eh, uno smeraldo, una lanterna, Leo. Ti piace? Come trade? È quello di Mending che ha livellato. No, livellato? Cosa ha portato di nuovo? È quello che ti ho appena detto. Solo quello? Non ne ha un altro? Vabbè, l'altro è... Ebbè, un libro, uno smeraldo. Pure quelle tante robe. Possiamo fare farmi di smeraldi, però. C'abbiamo anche il looting qua, ok. Ma scusa, se li facciamo riprodurre sti villager, oltre che tenerli chiusi? Serbe una bella idea, non trovi? Eh, sì, devo fare la nuova piattaforma, la prossima è a loro. Ah, la stanza... La colla delle pozioni, se l'avete qua... Non c'abbiamo uno con unbreaking, purtroppo. Eh, quello bisogna farlo. Ok. Tieni, Leo. A quanto cuoio ti serve? È il più possibile. E per cosa ti serve? Oh, è entrata in marine. Eh, sì, vabbè, allora ciao. Questa qua mi basta avanza. Allora facciamoci i libri. Ah, per lei te ne fremo. Uno stack te lo lascio qua, 40 mi bastano avanza. Ok, faccio i libri. Tanto più che altro mi serve... Le canne da zucchero, mi sa che ne abbiamo poche. Eh, no, mi pare che ce ne erano qua. Vedere. Eh, 36. Qua ce ne sono 24. Carta ce n'è qua. Carta? C'è? Ok. 30 di carta ce l'ho. Speca arrivo. Prendiamo tutta la carta possibile. Il canne da zucchero? Il canne da zucchero erano qui nella cesta della verdura. Cioè, della... Eccole. Ok. E bisogna farne un po' di più, effettivamente. Ok. Ci accontenteremo per adesso. Comunque c'è l'anima. Anima che girellava per le proprietà di E-Marine con fare abbastanza sus. Tac, tac. Ok. Secondo me è l'impostore. Tieni, ti do anche questo. Leo, tu hai troppato un po' di cuoio che mi ha avanzato. Grazie. Però c'è la torre di Oblivion nell'occhio di Sauron, nella... Siamo veramente poveri di materiali. Da Poldo. Come va la torre di Poldo? Eh, c'è... Sembra di essere in Oblivion, improvviso. Legna non ne abbiamo. Servono tutti questi smiragli, ma sì. Aspetta, io ne metto mending. Faccio così. Dove... Ah, l'incudine è qua, ok. Ciao, Fiericus. Un saluto da un viewer di Lola Ancut. Andrà. Uno. Due. Hola. Uno. Due. Ah, state facendo qua di bello. Cioè, bro, buongiorno. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ho fatto il più alto possibile per non deturpare il bellissimo paesaggio di casa sua. La ringrazio. Ma ti sei appena svegliata? Sì. Cosa collegherà a questo cuoio? Sento un po' dalla voce. Casa nostra ha un punto generico a caso, dritto per dritto, all'infinito. E ci saranno anche i minecart. Poi faremo le varie stazioni, le... Giusto. Ci saranno i vari... Sarà minecart, ovviamente, quindi sarà motorizzato, però per avere l'attacco a casa propria e per usufruire del servizio bisognerà giustamente poi pagare. Eh beh, vorrei anche vedere. Ah, fermi. Ecco. Aia. Cosa? Passate da sopra le mie proprietà e io dovrei pagare? Eh, purtroppo la sua proprietà, come è stato visto al Catasto, abbiamo chiesto al... ovviamente in comune e... No, 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 il comune è ancora... non abbiamo ancora un sindaco. Eh, ma purtroppo siamo una famiglia Benetton, paghiamo bene per far... per far silenziare le persone. Allora, allora, io vi do il concesso di costruire nella mia zona. Ok. Però, in cambio... Il concesso... È tra il consenso e il... Sì, è una concessione, sì, è una via diversa. Concessione edilizia. Va bene. Non ho permesso il consenso. Come funziona? Di solito, quando il comune si sprende un territorio, di solito paga il proprio... Ma guardi... Di solito, ha detto bene, di solito. Di solito, ecco. Allora, io non chiederò. Allora, noi non siamo comune. Noi non diamo... non paghiamo, però diamo protezione. Potrei denunciarvi, potrei denunciarvi. Eh, ma non funziona così da queste parti. Ha avuto inizio, ha avuto inizio. Ma lei deve capire che noi purtroppo siamo abbastanza amici, diciamo, con chi è importante in questo posto. Ti spiego, noi non paghiamo, noi diamo protezione. Perché metti caso che succede qualcosa, noi siamo lì ad aiutarti. Lei ha una casa bellissima di legno, sarebbe veramente un peccato se prendesse fuoco una di queste cose. Noi la proteggiamo, se lei chiude un occhio la proteggiamo. Altrimenti potrebbe succedere qualcosa di brutto. Chiudo tutti gli occhi che volete, purché? Perché? Ci dica. Io non chiederò niente, ok? Mi lascerò costruire in questa traiettoria. Non espandetevi, per favore. Però l'unica, diciamo, l'unica clausola che metteremo, ok, è quella del fatto che io non dovrò mai pagare niente. Eh, vedremo, vedremo. No, 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 il contratto si firma prima, non si firma dopo. Che cos'è? Beh, ma si potrebbe fare un'eccezione. Uno sconto, molto scontato. Uno sconto, sì. Alla fine, quali territori avete importunato? Beh, abbiamo bucato sotto casa di Emerald fortissimo. Vabbè, io non lago. Potremmo fare metà prezzo. Anche se non sappiamo ancora quale sarà il prezzo. Sconto famiglia. E se porta un amico ha diritto al 15% di referral. No, 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 referral li lasciamo a casa. No, no, io esigo, essendo che non, effettivamente, non vi sto dicendo niente, quindi vi sto lasciando l'abuso edilizio continuare, ok? Sto lasciando l'abuso edilizio. Ma guardi che fra cent'anni i nostri figli vedranno questa costruzione e diranno che bellezza. Abuso edilizio, uno dice lei. Potrei avere cosa da ridire in Pietrisco. Bellezza in Pietrisco, non lo so. È il muro di Cobblestone, è tutto pensato. È per dare un tocco rustico all'opera. Si vede che lei non ha studiato design. Basta laggando? Sì. Ah, ok, è tutto bloccato. Ecco, a posto. Ecco, questo è quello che succede a non concederci il passaggio. No, questa parte non potrà mai più lo gare. Ha dei boschi in giro a cazzo. Sì, sì, sì. Ma in serio, non fa faglio, ho dato fuoco mezz'ora fa. Che canale merda, giusto! Grazie Vino per i sei mesi, bentornato, caro. È esploso tutto. Eh sì. Niente, così imparano la fastidia di Benetton. Mentre fanno l'autostrada. Che cazzo. Grazie, Kobu dell'host, benvenuti, ragazzi. Eme che non paga l'host. Mamma mia. Vedi, non ha pagato il pizzo e niente. Non si entra più. Eme è morto? È morto? Niente. Anche Eme è morto. Mutato, non dice niente. No, ma ora arrivo. Niente. Esplode. Oh, eh! Se non arriviamo dentro. Ok, si è tornato dopo. Ok, ha pagato la corrente, grazie. Ha pagato la bolletta. Niente, avevo fatto un sacco di strada, ma l'ha riportato indietro. Io non so dove sono. Faremo causa, faremo causa. Oh, è ripartito. No! Mezz'ora di lavoro buttata, porco demonio. Niente. E avete notizie dei nostri evocati competenti, mi dispiace. Non so se Emerald c'è, però avrà notizie. Scrivililo, Berta, scrivililo. Fagli capire. Ah, ma non c'è niente. No, niente. Eh, non c'è Emerald in game. Probabilmente gli è scoppiato tutto. Ah, può essere. Sei morto il server, basta? No, no, è tornato, è tornato. È tornato dentro? Ok. Di che è tutta quella canna a zucchero? È di M. Dovremmo fare uno scambio. Eh, chiedi, noi abbiamo dato la lana. È vero. No, lui ci deve 24 diamanti. Eh, allora, prendo tutto. Prendo, prendo. Prendi, prendi, prendo, prendo, prendo. Se fa domande ricorda gli suoi debiti. Sì, 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 se fa domande gli ricordiamo il 24 diamanti. Ma infatti avremmo dovuto... E buona, grazie. All'ultimo a cui hai ricordato i debiti che gli si sono spezzate le dita da sole. Ma sì, incredibile. Gli si è chiusa la porta sulle dita ripetutamente. È stato veramente una tragedia. Non abbiamo capito neanche perché, né come. Povero ragazzo. Però poi ha pagato subito. Sì, è vero, quello... Molto dirigente. Guarda, sono stato anche buono. L'ho lasciato in modo tale che possano ricrescere. Quindi non è neanche un danno. Ok, ok. Spero che se ne ricordi. Possiamo discutere per una riduzione prezzo alla signora Marion, così da... Sì, io direi un 50% sul pizzo che non sappiamo ancora quanto sarà, però. Quindi, cioè, lo sconto, prima facciamo la tassa per l'utilizzo. E infatti... Siete sicuri che volete andare contro le mie volontà? La domanda potrebbe essere posta anche verso i più proprie. Lei è sicura che vuole andare contro le nostre volontà? Non glielo consiglio. Ma io non sto andando contro. Se ci pensate, io vi sto permettendo questa costruzione discutibile. Noi le stiamo permettendo di permettercelo. Quindi... Non sono d'accordo. Allora, io vorrei stipulare un contratto. Un contratto. Glielo fornirò io e i miei avvocati. Va bene. Ma non c'è un avvocato in città? Ma infatti... Beh, ma io ho i contratti. Ma noi abbiamo gli avvocati competenti. E il nostro cazzo in confronto con i vostri padri... È come quello di un elefante. Grande citazione. Andiamo in accettazione. Per avere un contratto però esigo la massima comprensione per aver fatto questo danno a me così... Ma quale danno? È un'aggiunta. È un'aggiunta. Guarda qua. Da un tocco di modernizzazione a questa bettola. Questa baracca in centro al lago. Penso a tutti i nuovi clienti che potrebbero passare al suo acquario. Ma infatti... No, no. Io sono una commerciante. Eh, appunto. È ancora meglio. Ho bisogno di acevolazioni per il mio commercio. Allora, i commercianti da che mondo dà? Eh, ma insomma... Non ci sono passaggi per le macchine. Eh, ma no. Sì che ci saranno. Guardi, ecco. Possiamo fare un accordo. Le faremo lo svincolo autostradale gratuito. Perché oltre alla tassa per andarci, per avere lo svincolo personale bisogna pagare. A lei lo faremo gratis che arriva direttamente alla sua attività così i clienti potranno scendere quando vogliono. E qua veramente non c'è nulla da dire. Se così non le va bene... Con dei bei cartelli anche. Con dei bei cartelli, esatto. Personalizzati con scritto scendete qua per, non lo so, gattini. Una roba del genere. Sembra un ottimo scambio questo. Foto di gattini nudi sulla destra. Com'è gentile, signor Bertra, com'è gentile. Ma io sono... Non voglio casini. E dato che purtroppo Nino in questo momento è occupato con la famiglia di villager o tuo genari dall'altro giorno... Non possiamo... Estorcere il permesso in questo modo. Giusto. Insomma, persone per bene. Avrete intenzione di sostituire questo pietrisco o rimarrà pietrisco for life? Vedremo. Prima o poi, magari. Due, tre stanno dormendo. No! Questo per ora è un lavoro abbastanza iniziale. Sì, sì, sì. Poi nei piani verrà ampliato a due carreggiate con un'iwalla. C'è un po' di piani. Ok, ok. Bisogna fare la tab, vero? E comunque... L'alta velocità. Esatto. E comunque il server deve ringraziare il cielo che non ho fatto quello che volevo fare all'inizio. Dar fuoco a tutto? No, volevo fare un enorme... Cioè, non un enorme, una lunghissima farm di grano. Due per infinito, a caso. Con le fence intorno. Quello sarebbe stato molto più molesto. Poi la faremo. C'è sempre tempo. Dal lato opposto. Esatto, esatto. Ok. Entro il blocco del nether. Allora facciamo così, io vi fornirò il contratto. Con annessa clausola di entrata per la mia dimora, conosciuta anche come casa di commercio. Madonna, addirittura. Madonna, sembra abbastanza... è un po' altissonante come nome. Io sapevo che c'è la camera di commercio, ma l'intera casa addirittura. No, 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 ecco. L'intera casa di commercio è un'altra cosa, la camera di commercio. Se ci andate auguri. C'è un'intera casa di commercio. Ma noi abbiamo la casa di commercio e non la camera di commercio, ok? Ok, ok. Taremmo in considerazione. Oh, lì c'è casa dei mates. Comunque voglio dare un'informazione gratuita per questo gradevole scambio di opinioni, che non so signora Mari, io controllerei le chest che ha in casa, perché ho visto dei loschi figuri girare intorno a casa sua prima. Ai 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 ai. Dal mio cantiere ho visto dei loschi figuri. E il che non mi stupisce, il che non mi stupisce. Addirittura. Ma sapete più o meno che cosa potrebbero aver... No, non so neanche se hanno rubato, però ho visto che giravano intorno alla sua casa... Insomma, diciamo che conoscendo la provenienza non mi stupirebbe. Ma non era Emerald. Io non ho detto nulla, hai detto tutto tu. Quindi state facendo nomi? Io gli stanno dando fuoco i mates. Io sono nomi, cognomi e... Stanno andando a fuoco i mates? No, c'era su... C'era su di che scappava lì. Ecco. Comunque io sono nomi, cognomi e indirizzi. E cosa vorrebbe per fornirmi queste informazioni? Indiritto di passaggio. No, allora, questo è... Indiritto di passaggio ce lo siamo già preso, tra parentesi. Questo è un contratto a parte, già mi sono messa in contatto con gli avvocati. Aspetta, Bertra, tieni. Ma tu c'hai il totem of undime, quanto sei bello, Fiedi. Comunque l'abbiamo preso nel ride. Giusto per dare un'informazione, Bertra è il miglior avvocato che... C'è in circolazione. Mamma mia, best avvocato. Come testimonia il segno che ho a vita addosso. Ecco. Giusto. Ok, così... Comunque in realtà io sarei disposto a dare le informazioni soltanto se mi promettete di fare un bel po' di casino, così per il gusto di avere un po' di drama. Ok. Cioè, me diverte. Ma... Dovremmo chiedere anche i mates. Sono da sola, quindi per... Cioè, per... Per fare del... Vuole della protezione. Mi sa che c'è... Per la protezione. Eh no, la protezione inizia a costare parecchio. Noi non siamo affiliati con nessuno. Sono una commerciante, sono qui per commerciare. Eh sì. Di chiudere il caso passaggio con il contratto che vi fornirò a breve. Sì, ho fatto tutto qua. Invece per avere della protezione per la mia dimora attuale. Eh, lì iniziamo. Eh, qua bisogna parlare con Leo. Leo è quello che si occupa della protezione. Sì, bisogna fare tutte protezioni, bisogna capire in che zona è, chi... Eh, brutta. È qua, proprio centrale. Un ponte sopra, quindi la zona la riconoscete molto bene. Guardi, purtroppo noi siamo una multinazionale, quindi noi costruiamo un po' ovunque. Dobbiamo chiedere agli architetti. Abitivamente però, perché insomma... Guardi, non è niente abusivo. Può chiedere... Ah no, beh, non può proprio chiedere, però gli abitanti del villaggio in mezzo al quale siamo passati... Signor Bertra, signor Bertra, scusi, c'è un villager zombie qua sotto. Potremmo ucciderlo. Ma ucciderlo? No. Cioè, lo catturiamo o lo ignoriamo? No, non è più casa sua, quindi si tranquillizza. No, non è casa sua. Ecco, siamo andati avanti. Bertra, vogliamo catturare? Se vuoi vai a prenderlo, io intanto faccio la discesa. Che qua inizia a essere necessaria... Andiamo a catturarlo. Guarda, che c'è... Marco! Ecco qua. Eccolo, eccolo. American Sniper, signori. Non ucciderlo. Qualcuno mi ha rubato il cavallo. Ecco. Ecco! No, aspettate. Off roleplay. Se qualcuno scrive in chat come se l'avessimo sentito, è metagaming. Boh? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Bene, quindi faremo come se l'avessimo sentito. Perché il signor Parrins prima è stato sgozzato da Nova perché gli è stato rubato un cavallo. Cioè, Parrins ha cercato di scavallare il cavallo a Nova e Parrins si è preso il grosso cazzo di Nova. Si è trovato una testa di cavallo. Eh sì. Il punto è, prima il signore che ho visto andare nella sua zona con fare l'osco... Oh! E poi è andato... Non vi dire che è proprio Parrins. No, però poi ho visto che ha scritto Parrins sono davanti a casa tua o quello che ti serviva. Oh no. E quindi contando, unendo un po' i puntini... Sì, in effetti. Se va subito alla conclusione. Comunque qua c'è casa di Totta. Cioè c'è il cartello di casa di Totta. Ah, hai iniziato a farla. Ma non c'è niente, c'è un cartello e basta. Eh, lo so, deve ancora costruire. Ha detto che ha delimitato la zona per ora. Oh, cazzo. Eh... Mi dispiace. Mi dispiace per lei. Se solo fossi qua... Purtroppo. Se solo fossi qua potercelo dire. Totta, scrivi in chat se ti dispiace, non vuoi farti passare. Altrimenti se non scrivi niente noi andiamo, eh. Totta, veloce, non abbiamo... Ok. Non vedo messaggi. Purtroppo funziona così da queste parti. Taccia consente. Totta non scrive niente, quindi penso sia d'accordo. Va bene, va bene. Allora andiamo avanti. Penso sia d'accordo, sì. Cioè le... Le stiamo letteralmente entrando in casa. Vabbè, tanto non ha fatto niente, può spostarsi in mezzo blocco. Sì, in effetti, è vero. Può spostarsi di qualche chunk. Giustamente. Roba cruda. Roblox, hai detto? Signori mates, stiamo costruendo l'autostrada. La signora è in marine, non sembra molto interessata a sapere chi le ha mancato di rispetto. Sì, anzi, sono troppo interessata perché il mio cavallo bianco bellissimo, lo avevo spazzolato proprio prima di farmi un bel pisolino. Facciamo una domanda. Ma parli se è ancora in online o no? Ah no, non è più online. Ma no, no, perché c'è in 49 blocchi di Ossidiana? Cosa ce ne facciamo? Boh, sono belli, Leo. Che cazzo di domanda sono? Non lo so, onestamente. Perché li ha parvati più che altro? Boh, sono belli, Leo. Ok, va bene. Vabbè, comunque c'è il villager zombie che è lì sotto la tettoia. Suri risponde, aveva domando un'altra. Ecco. Hai cacato? Madonna, ho fatto il meme, uccidetemi per favore. Basta. No, è che... Quanto ci pagate? Eh no, eh no. Eh, ma allora non hanno capito qua come funziona queste parti. Adesso tutti vogliono essere pagati. Eh no, signori. Pagati, va bene. Il governo ha accettato il progetto. Siamo ben lontani dalla vostra proprietà. C'è incredibile. Eh no, eh no. Non c'è un soldi. Poi inizia ad essere proprio una umma umma. Non sono fan di questa cosa. Siamo senza cobblestone, mi sa. No, prova a controllare. Nelle 50.000 chest che abbiamo, sì. Nelle chest di passaggio. Va bene, vado. Il governo non ha parlato con noi. Siete voi che non lo avete ascoltato. Parlato. Che non lo avete parlato. Siete voi che non lo avete parlato. Tac, questa qui, questa qui, questa qui. Potremmo instaurare una repubblica indipendente dopo questa e niente. Qua inizia le grandi lotte. Molto male, ragazzi, molto male. Non hanno capito conto che... Scusi, siamo la famiglia. Lei non ci parla così. Ecco. Stia ben attento che nei piloni c'è spazio. Qua, qua, qui c'è una grave mancanza di rispetto. Dì, lì che non buttavo più sponsor con loro. Ebbè. La famiglia Benetton non perdona nessuno, ragazzi. Incredibile questa cosa. La famiglia Benetton. Qui, veramente, veramente, ci sono delle mancanze. L'asilo nido. Siamo veramente stupidi. Mamma mia. Così e ci piazzo queste lì. No, raga, non è nessuna reference a cose illegali. Noi, ovviamente, siamo dei... Come si dice? Stiamo cercando di rendere il posto migliore per tutti, no? Esatto. Mi sbaglio, signori. Assolutamente. Ovviamente imponendo la nostra volontà, ma quello è un altro discorso. Vabbè, ma quando sappiamo di avere ragione è giusto imporre la propria idea. È per un bene maggiore, assolutamente. Twitch, no, no, eh. È dipendere dai punti di vista. Grazie. Dipende dai punti, esatto. Quelli che si prendono in fronte e quelli che si offrono a noi. Grazie ai sub, raga. Se ricordi che chi controlla i media controlla il popolo. Niente, devo dire che sa trattare, signora Suor. Risiede che ha esperienza nel settore. Adesso faccio una citazione di altissimo livello e vediamo chi la coglie. Ma io ci provo. Io non l'ho colta. Eh, porca miseria, nessuno ha letto 1984 qui. Bestie, bestie. Oh, forse lui l'ha colta. Ed o che è nell'XX, cheer di X100. Ciao, Fieric. Forse. Tac. Poco tempo fa, Berta, io ho visto il film. Madonna, il film... Non lo so, però il libro è veramente un must. Chi non l'ha letto è un cane, deve leggerlo, scusate. Leggere? Che cos'è? È una roba moderna, Fieric. Hai presente quando vedi le scritte che ci sono sui post di Instagram? Non sono scarabocchi? No, no, no. Hanno un significato. E in più esistono questi supporti moderni. Cosa l'hai ripristo? Ciao. Eh, oddio, l'ho messo pressoché quasi ovunque. Ok, ok, perché ne avevo altri due libri qua, ho appena notato. A me Mending può servire se lo tieni. Ok, no, due libri nella Ender Cest. Perfetto. Comunque capisci che abbiamo sbroccato il server quando il nostro passatempo è costruire autostrade. Vabbè, ma servono. Ma che bella che è, mamma mia. Mi nombrò Spavlo Emilio Scobar Gaviria, plato o plomo. Niente. Devo dire che sa contrattare. Però ciò non ci ferma, ovviamente. Ma siamo il Benetton, noi... Noi siamo il Benetton. Noi costruiamo. Noi costruiamo. E chi si oppone a noi... Non capisco la suddivisione immateriale in questa legge. Quale suddivisione immateriale? Eh, qua delle cestre. Boh, messo via della terra nel blocco della sabbia. No, ma c'è il blocco della terra sopra. Madonna, ma quanti? Ma non abbiamo così tanto materiale. Che serve una doppia ceste per la terra e una per la sabbia? Non lo so, era... Vabbè, effettivamente sì, si può mettere la sabbia e la terra assieme. Adesso l'ho esposto, effettivamente. Ah, ma c'è della cobblestone qua, allora? La rubo immediatamente. Ma c'è anche il muretto, ma guarda qua. Madonna, signor Fieric. Mi dispiace un sacco... Scusate, vorrei lo screen di Casa de Totta TVB con in mezzo il mio ecomostro che passa. È proprio... È una cosa terribile. Vabbè, ma per un bene maggiore, ricordo. Per un bene maggiore. Per il bene superiore. Sì, sì. È per garantire stabilità e sicurezza nel mio nuovo impero galattico. Esatto. La garantiremo. Fino all'ultima goccia. Ma scusa, vieni qui. Nova sembra la mamma che dice no, no, non ti faccio niente, vieni qui, vieni qui. Vieni, vieni, vieni. Allora aspetta. Allora c'è la testa sabbia, che adesso bisogna ripolparla. Ci derubbi qui e viene chiedendoci le cose. No, no, va bene, va bene. Cosa sta succedendo? Drama time, molto bene. Ma no, ma adesso c'è una volta. Comunque, Fieric, tra poco ci sarà il secondo traforo del Monte Bianco. Molto bene. Questa è proprio la TAV, ve lo dico. Sì, sì, sì. Questa stanza qua, cosa la faccio? Cosa la facciamo diventare, sta stanzetta qua iniziale? Boh, l'anticamera. Eh, ma cosa ci metto? Non lo so. Questa è la TAV e siamo ancora a Torino. È la TAV, esatto, sì, sì, sì. Siamo in Val di Susa, raga. Stiamo tirando dritti. Speck arrivo. Allora, ho preso un sacco di muretti, così. Bravo, riempi i muretti, allora, che io sto facendo tutti i bordini. C'è un cavallo in acqua. Eh, vabbè. Ecco. Perché adesso stanno tutti parlando in finto spagnolo? Cosa è successo? È una bella domanda. Ai, 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 ai. E qui mo, e qui mo, è andata, raga. Devi mettere la roba magari in casa. Grazie, Esti, per il Prime, Edo Channel, grazie a tutti. La mia devozione alla Repubblica, alla democrazia. Grazie del Prime. Esatto. Gentilissimi, raga. Val di Sus. La Val di Sus. Ha scritto Val di Sus in chat. No, no, niente. Stop, stop. Get out of my head. Get out of my head. Val di Sus. La Val di Sus. Ti piace la Val di Sus? Ci puoi incantare lo scudo? No. No. L'ho provato io, ma non si può. Ci andrò domani, Val di Sus. Non puoi metterci nulla, purtroppo. Madonna, la Val di Sus. Io mi farei un piccolo viaggetto in miniera, che prendo un po' di cobblestone. E di diorite e di granito, tutta quella che trovi. Qua di diorite ne abbiamo troppa. Allora tutta la granita e basta. La granita, per me è il limone, grazie. Che schifo, la granita al limone deve essere proprio... No, la mia preferita è la menta. Quello vosso, sì. Ok. La menta avevo accetto già di più. Ecco. Unbreaking and mending sullo scudo. Ma in realtà ce l'ho provato. Non si può, raga. Io ho provato l'altro giorno. Mi sembra. Mi viene il dubbio, ma secondo me non si può. Solo in creativa che si può fare quel cazzo che ti pare, ho scoperto. Però tolta la creativa non penso di posso. Beh, creativa, ok. Sì, ma non sapevo che in creativa si potesse mettere... Sì, ma non ti fa... Cioè, non hanno effetto. Ti puoi mettere anche gli enchant quelli strani a cazzo. Tipo, fedeltà. La camera non fa nulla. Cos'è fedeltà? Eh... Per il... Per il coso... Tridente. Ah, che torna. Sì. Fedeltà. Ma il tridente senza fedeltà, cosa fa? Lo lanci e fa stop. Lo lanci, sta lì, fine. Penso, non lo so, ma che ne so io, una volta ho usato il tridente. E quindi se io tipo lo lancio a Nova, Nova può rubarmelo? Penso... Non lo so, non lo so. Fai delle domande complicate, Leo, guarda. Basta, Leo, dai, pensa alle tue cose. In realtà non piacciono le domande, piacciono solo le risposte. Esatto. Esatto, Leo. Assolutamente. Vedo che parliamo la stessa lingua adesso, Leo. Io sto detto realmente... Mi sento la talpa che sta facendo l'M5 a Milano, l'M4 a Milano. Sto trapanando una montagna. Perfetto. Inizio a mettere un po' di pavimentazione che è un po' pericoloso. L'M5 c'è già... L'M4 l'ho detto. Mi sono corretto, mi sono corretto, giuro. No! Ha già caduto. Basta con sti copypaste in chat. Mod, potete far pulizia, per favore? Moderatori! Plup, plup, plup. C'è un camionino, no? Grazie, Gio. Non lo saverò, no? Da un po' che tu sta sforzata che gira. Signor Fieric, buonasera. Ecco, ci sto mettendo il muretto. Probabilmente a Totta dovremmo dare un indennizzo di qualche genere per questo screzzo che le abbiamo fatto. Ah, va, mi pare. Le daremo un pat-pat sulla testa. Mi sembra abbastanza... Oh, cazzo, mi serve una crafting tueburi. Non ho più legno. Hai legno per la crafting table? C'ho la crafting table... No, c'ho legno, sì. Vai, fai una crafting rapida. Ok. Grazie. Ecco qua. È il tridente, un giorno di questi, me la faccio la missione per andare a cercarlo. Devi avere looting e picchiare tanti... Ma che di diorite c'è... Non so se hai visto la ceste che ne era strapieno. Sì, sì, lo so, ma ne ho ancora, ma volevo fare le slab. Ah, ok. Ecco qua. Madonna, che progetto, ragazzi. C'è un cane. Eh, lo so, lo volevo addomesticare, ma ha detto... Eh, no, signor cane, se ne vada. Bau, anche a te. Bau, ecco. Eh, come sta ne serve? Tanta. Ne serve sempre, dico, blu, sto in Moretti, sono un incubo. Io ne ho fatti un botto di Moretti, no. Ho preso un sacco di andesite. Vi serve quella giusta? No. No, Leo! Leo! Ma è bellissima! Mamma mia, non mi parlare mai più. Che merda che è l'andesite. È bella l'andesite. C'è il meme dell'average... Andesite fan versus average diorite enjoyer. Boh. Che capirò solo io e i miei fan, probabilmente. Probabile. È un bel meme, però. Oh, però c'è da dire che i Moretti sono bastati ad arrivare fino a qui. Sì, a Bertra, però non so dove stiamo andando adesso, ormai. Ci abbiamo passato penso le case di tutti. Basta. Basta, ormai l'autostrada va dritta per dritta. Sarà un progetto che... Fai come tutta l'autostrada. Alla fine ci piace una rotatoria e torna indietro. Onesto. È così che funziona l'autostrada, eh? Siete mai arrivati alla fine di un'autostrada? No. Nessuno ha mai visto la fine di un'autostrada. Non esiste. Sì, a Milano e c'è il casello. No, è vero. No, più avanti c'è la rotatoria e torna indietro. Ah. Non c'è nessuna autostrada a Milano. Ti sbagli, ti sbagli. Grazie, Kevin, ragazzi. Grazie, il sub. Benvenuto. Che bello, che creatura. Mi sa che quella torrettina l'illuminosa è tipo la... Ah, no, è la farm dei mates, quella. La farm di cosa? Eh, la... Proprio di... Ah, la... Il campo di grano. No, no, è proprio la farm di mates. No, niente nemmeno. Di crescere un botto. Oh, no, lo scappo. Ogni tanto l'ultimo è stato Jaden, fra un po' ne arriverà un altro. Ah, ok. Giusto. È un casino. Ciao, camionino, sei molto carino. Ti do un osso, diventa mio amico. Diventa Gervaso Terzo. Dove sei? Ogni quanto devo piazzare le torce, signore Bertretton? Ogni cinque. Sì! Gervaso Terzo! Ce l'abbiamo fatta! Ci dovranno salvare Filiberto. Anche tu hai un cane con uno mascaro. No, è una tartaruga, Filiberto. Ah, è Filiberto la tartaruga. Eh, sì, ed è a 4.000 blocchi di distanza da casa mia. Vabbè. Vi pensate. Io avevo Gervaso, che quando riportavo... Stavo tornando dietro da... Non so dove. Ah, dalla mia missione per trovare i villaggi. C'era Gervaso. E a un certo punto, per sbaglio, l'ho accucciato, me ne sono accorto mezz'ora dopo, l'ho perso. Fine. Addio, Gervaso, resterà seduto sempre. Infatti, Gervaso primo è ancora lì. Non si sa ben dove. Dovresti sentire, Poldo, che è quello che fa le missioni speciali, di cercare un cane seduto. Eh. Bel casino. No, Gervaso, non iniziamo a fare cazzate. Dov'ho mettermi a contare qua. Eh, lo so, è quello che facevo io prima. Se vuoi un trucco è falle tutte da un lato e poi le altre sono facili. Sì, sì, quello che sto accendendo. Ok. Molto divertente, ragazzi. È un cazzo di eco-mostro. Mi sembra di essere la scampia. Sembra di essere l'ilva... È un cazzo di taranto. Non ditemi così. Sei una bestia. Lo scudo lo incanti con i libri. Allora si può incantare il... Eh, allora la rispettura di presto non se lo butto solo dopo. Cazzo. Ma dai, non se ne sarebbe accorto nessuno. Sei veramente uno streamer di Minecraft, tu. Non mi dire così, per favore. Mi dispiace. E poi gli viene da piangere. Vabbè. Aggiustato. Questa quando una volta mi dicevano Ma tu sei Fieric, quello delle reaction, quello dei troll su LOL. Ma tu sei Fieric, quello di Minecraft. Mamma mia. Siediti Gervaso. Forse è meglio dei due, guarda. No, vabbè. Quello delle donazioni. Ma tu sei Fieric, quello che insulta i bambini. Sì, sono proprio io, testa di cazzo. Il mio piccone con mending si sta smerdando, smendingando. Ok, ma se andassi... Se iniziassi a fare delle rotaie... Purtroppo ho una brutta notizia, ragazzi. Non potremmo usare il duplicatore di rotaie perché ce l'hanno impedito. Ah, è la solita farm troppo forte. Eh, perché è duplica. No, qualcuno ha detto che non potremmo fare la farm di Golem se nessuno vede. Eh, ma siamo in stream, come facciamo? Ragazzi, finito stream, andiamo a farmare tutte le rotaie. Sì, lo facciamo stream perché sennò è noioso da vedere. Certo. Cerchiamo Mineshaft, lo troviamo e farmiamo tutte le rotaie, una a una. Certo, ragazzi. Ottima idea. Se nelle stream degli altri ci vedete fermi in casa, eh, non è vero. No, no, è un bug. È un bug. Sì, stò trapanando questo... Trapana! 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 Ok, che ho posto. Mamma mia. Hai trapanato? Cadorna. Fermata Cadorna. M1, M3. Da quanto è che non prendo una metro? Dal covid. Onesto. Ci pensate che tra qualche anno potremmo dire tipo ai nipoti, io c'ero quando c'era il covid? E il nipote ti risponderà, lo so papà, siamo 40 anni che siamo in casa, ci sono anch'io. E in effetti si continua così. No, no. Giusto. Grazie Arius del Prime, nono forte, grazie del Prime, benvenuti ragazzi. Classiche, poi altre malattie che hanno fatto roba simile, influenza spagnola, quella del genere. Se ci fosse stata adesso, l'influenza spagnola, come sarebbe stata affrontata? Quanti morti avrebbe fatto effettivamente? E se il covid fosse stata al tempo, non so, tipo 2400 così? Quanto casino faceva? No, il covid al tempo tipo della spagnola o che, avrebbe fatto meno morti della spagnola, un bel po' più di adesso e basta, secondo me. La spagnola adesso avrebbe fatto molti più morti del covid, molti meno di quanti ne ha fatti la spagnola ai suoi tempi. Spero ben perlomeno. Potremmo provare. Ah beh. Un laboratorio e rifacciamo la spagnola. Esatto. Appena finito il covid, così. Quando tutti i negazionisti arriveranno a dire, è qualcosa che ha fatto nei laboratori? Sì? Sì. Sennò come facevo a farla, scemi? Eh. Sennò te sta passando, è già passata in realtà. Va bene. Questa cazzo di freccia è sempre qua. Ho fatto il momento sus, ragazzi. Cos'è combinato? Niente. Ho fatto le slabby di granito non raffinato. Fa un po' lo stupido. Se io sto farmando granito e tutto quanto e lui lo spreca così... È incredibile. Leo, tu non hai fatto niente della manodopera, quindi... Vivi in una casa bellissima, mi pare, eh? Cioè, non è che far la casalinga e tenerla a casa a posto non è un lavoro? Attualmente stiamo andando fuori dalla casa in questo momento, però sì. Sporco mastiglista di Umbertra. Ecco. Mastilista? Sì. Brutta storia essere mastilisti. Moschietterista. Stilista. Ma quando finisce sta cazzo di grotta, finisce a un certo punto? Quanto Dio mio... Ok, se lo sto ancora tirando su. Non sono sicuro che... Mettere un po' di roba qua. Fieric, sei a casa tu? Sì, sono a casa. In caso riesci a fare uno stonecutter a portarmelo? A cosa ti serve? Eh, per vedere se si risolve sta merdata che ho combinato. Ma cosa devi fare con lo stonecutter, scusami? Che blocco. Come si chiama? Raffinare la diorita e la granita. Ah, se lo raffini con lo... Ah, hai fatto delle slab non... Ah, ho capito. Ho fatto delle slab non raffinate. Adesso lo rubo e te lo porto, però prima... Cioè, di solito... Me ne sono accorto perché le slab di prima dicevano Oh, grazie caro di avermi poggiato questa età. Oh, bellissimo! Poggiammi qua! Non era molto raffinata. Ok. Bertra... Dimmi. Devo fare le rotaie. Potrebbe essere un'idea che le dici. Sì, se riesci a farle anche quelle powered, quelle loro... Cosa facciamo? Torce di redstone? Ma sai quanto sarebbe bello... Sai quanto sarebbe bello poter utilizzare gli shulker? Però tanto non si può andare dal drago. No, no, no. Ti immagini quanto sarebbe bello? Io me lo immagino. Posso solo immaginare. Sai che non ho mai usato uno shulker box in Minecraft? Perché dai, quando ci sono... È comodo. È comodissimo. Vai e torna. Cioè, vai e torna. Porta. È stracomodo. Porta, porta. Porta, porta. Primo canale. Cosa sta succedendo nella chat globale? Perché parla in spagnolo? Siamo arrivati in Twitch a Spagna. Ok, allora, facciamo ste rotaie. Sa che dovremmo farne tante? Eh, sa anche a me, sai. Ok, è un inizio. E devo fare anche quelle con l'oro. L'ovo! Bello, l'oro ne abbiamo. Ti piace l'ovo? Mi piace un sacco l'ovo. L'ovo ne abbiamo tantissimo qua. Adesso... Vero Amogus momento, ragazzi. La Redstone c'è da qualche parte. Nella chat console è la Redstone. È uno dei barili. Appenenti sulla destra. Mamma, che bordello. Appenenti sulla destra. Oh mio Dio! Oh mio Dio, sono uscito! Sono uscito! Non ci credo. Come sei andato? Ho passato la prima montagna. L'ho proprio bucata. Oddio. Ragazzi, per favore. Oddio, sono eccitato. Non vorrei essere quello che lo dice, ma piangete, per favore. Piangete! Piangete tutti! Piangete! Incredibile. Siamo usciti dalla Val di Sus. Siamo ufficialmente in Francia. E però parlano spagnolo lì da dove sei uscito che sei in Francia. Sì, in effetti. Sono passato la parte sbagliata. Stanno piangendo tutti. Guarda come piangono. Beh, d'altra parte si chiama Val di Sus mica per caso. Ma? Era già qua su? Passo? Oh no, ma qui c'è il mare aperto proprio. Beh. Non dobbiamo rompere nulla. Andiamo dritti su per il mare o facciamo una curva al gomito? Sì, ma dove dobbiamo andare? Ma boh basta, deve andare all'infinito. Ma facciamo le uscite adesso. Ma aspetta, aspetta. Facciamo un'uscita, andiamo allo spawn. Almeno lo spawn ha senso andarci. Va bene. Allora adesso qua tappo. Ma manca del granito solo per chiudere. Ok. Faccio il tappo. Aspettate. Chat, chat. Quanti binari devo fare secondo voi? Quanto devo alternare i binari quelli normali a quelli powered? In orizzontale tipo dieci blocchi. Cioè il tipo metto un binario alimentato, poi quanti non alimentati? Dieci. Andiamo Gervaso, torniamo a casa. Con tutti i numeri diversi. Però vedo che otto è il più gettonato. Sto cercando di capire che giro fare per tornare alle scalette. Esempio così. Uno, due, tre, quattro. Mamma mia. Sei brutto. Non ti permetterai di fare brutto shaming. Ho buttato una islandesite. Vuoi che la riprendo perché è bella? Facciamo così. Cinque, uno, due, tre, quattro, cinque. Madonna. Questo è il progetto più bello di Minecraft Italia. Se seguo la rotaia vi trovo? Sì, a me sì, io sono in fondo. Sto tornando verso casa. Le torce sulla sinistra. Ah beh, ma Fieri, tu hai messo... Eh. Ah. Fuck, non so più dov'è. Le torce sulla sinistra, spero. Comunque, Fieri, che hai messo le torce solo da un lato e basta. Eh, non ne avevo più. Sulla sinistra. Sei molto sus. Aspetta, c'è un problema, signor Bertra. Come facciamo ad alimentare i binari? Sì, sì. Redstone... Eh, dove le mettiamo? Torcia redstone sotto. Sui ponti inventiamo qualcosa, tipo delle ministrazioni. Ah, ok. Ah, proprio sotto. Ah, ok. Non si deve vedere. Giusto. La leva in verticale, forse? Si può fare la leva in... Cioè, mettere la leva... Sì, è vero, con la leva sotto proprio. Così la possiamo coprire facilmente, capito? Madonna quanta diorite c'è ancora! Ah, non ne serviva altra? Per ora... Tanto, è il granito che manca. No, no, ma in realtà poi dobbiamo farla perché dobbiamo arrivare fino allo spawn. Ok. No, adesso ti porto, arrivo alle rotaie. Non puoi salire così, va bene, mettiamo... Tieni, Gervaso, mangia la carnina. Ne mettiamo di più in caso nelle salite. Va bene, ne metteremo di più nelle salite. Beh, sì, nelle salite ce ne vogliono di più. Sto allevicando la diorite. La mia creatura! Ecco qua. Metti l'activation relay. A cosa servono? Cosa dobbiamo attivare? Cioè, non è che stanno attive da sole. No, gli activator relay non servono a un cazzo. Va. Va. Ok. Donna, bellissimo. Ho sbolletto le rotaie, no? Sono queste. Qui sale e qua scende di nuovo, va sotto casa di Memerald. Qui sale. Passi sull'activator e partono le powered. Ah, dici per non tenerle tutte sempre attive, con l'airstone sotto. Vabbè. Eh, vabbè. Beh, oddio, così effettivamente sa più il tecnologico, eh. Adesso siamo in Benetton, mica niente. E dei muri, ti ti servivano? Ok. Ah, le activation relay attivano il binario dopo? Ah! Qui possiamo metterle prima tutte le volte. Vabbè, se si può fare... In effetti è vero, non ci ho pensato. E però quanto costa farle? Perché anche lì sono dispendiosissime. Eh, maghi un pochino. Mettete lava o acqua ai lati dei muretti, ok, raga, no? Quello è un film dell'orrore. Aspetta. Ho capito. Attivatore, ecco. Ah, con le torse. Ah, c'è il villaggio. Sto arrivo! Ah, ma che bello, tutte le... Se sei volato toccato, è di poco, Berca. Si potrebbe fare, effettivamente. Si potrebbe fare. Dov'è lo spawner da qui? Lo spawner. Lo spawner. Eh, verso destra, poi. Ok, Berca, attivatore. Berca, vieni qua, vieni qua. No, basta, sono pienissimo di... Oddio, oh, no, no, non mi sta più, non mi sta più, non mi sta più. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Leo, non mi sta più. No, riprendila e mettila nella cesta che trovi un po' più avanti. L'attivatore cosa serve, ragazzi? Scusate. Cioè, se l'attivatore non attiva, cosa serve l'attivatore? Ok, allora sono queste altre. Con la pressure, proprio di pietra. Mamma che ballo. Ok. Ok, rilevatore. Attivare le TNT. Ah, ok, ok. Va bene, fattibile, fattibile. Ah, questa è casa Polodo. O meglio, ho fatto l'occhio di Sauron. C'è uno di voi che è a casa, per caso? No, sento di qua. Ok, allora niente, ho da fare... Questa è casa Parrins. Eh, temo che lo spawn... È a sinistra di casa Polodo. Sì, sì, l'ho visto. È a sinistra di casa Polodo. Ah, è già. Proprio casa di M. Che peccato, vero? Eh, dovremmo farla un po' storta. Vabbè, fare una curva. Vabbè, facciamo poi un'altra curva dopo, tanto. In un modo o nell'altro ci si riesce. È una strada può curvare. Eccolo qua. No, lo spawner passa dritto per dritto in casa di Eme. O ci mettiamo di fianco. Cioè, è stato severamente vietato duplicare le cose. Mi dispiace, ragazzi. Sarebbe molto comodo. Grazie GianniGio per il Prime. Lollo per il Prime. Benvenuti, ragazzi. Grazie di sub, davvero. Anche se vi ringrazio subito, sappiate che siete sempre nei miei pensieri e sotto i miei occhi. Tentate. Non mi tentate con queste cose. Io mi abbandonerei un attimo per andare nel Nether e farmi qualche livello. Che devo finire di inciantarmi tutto. Eh, io devo inciantare ben tuttissimo. Io mi sa che invece vi abbandono e basta perché sei fatta una certa. Ma dai, ma sono le 5 e mezza. Ma che cazzo i famiglia... Sono in live da tre ore. Eh, ho capito, Bert. Ho potuto aspettarmi un pochino. Così potremmo... Cioè, proprio adesso stavo... Noi facciamo i test delle rotaie. Va bene, facciamo i test delle rotaie, cazzo. Facciamolo. Aspettate che mi serve il ferro qua. Ma dovrei fare... Ma chi è che ci ha rotto il portale? Eh? Chi è che ci ha rotto il portale del Nether nostro? Secondo me è stato Nova. Secondo me è stato Nova. Se l'è presa tantissimo. Se l'è presa tantissimo per quando Bert l'ha usato. Ma cosa vuol dire l'ha usato? Eh... Ci sono saltato dentro e sono uscito. Fine. Eh, molto male. E non si può, non ho capito. No. No, non si può. Perché? Boh. Perché bisogna usare quello comune. Siamo una comunità. Scusami. Andiamo in quello comune. Ci stavi entrando dritto per dritto. Io lo stavo già ricostruendo e ci stavo entrando. Ero l'altro cercare l'ossidiana da fare. Come pensi di metterle le cose, Fieri? Uh, giusto. I supporti li faccio di diorite o di ossina, buonanotte? Di diorite? Spai che sono strappieno di rotaio qua. Un attimo che è un casino. Andesite. No, niente andesite. Fievic, tu che sei più investito nel progetto. Sì. Il... Come si chiama? I piloni li facciamo di di che colore? O di piloni poi possiamo rifarli anche con con qualcos'altro magari. Ci pensiamo poi. Magari facciamo qualche test con altri materiali. Così ne usiamo altri. Secondo me... Beh, poi secondo me ecco ora potrei fare... Si possono fare i muri di di granito? Domanda. I muri di muri. I muri di granito? Sì, poi, poi. Per sostituirli alla coble. Penso di sì. Ma ormai, che cazzo? Devi tagliarla. No, vabbè, per ora li facciamo così, direi. Allora. Va che puoi fare il portale del Netherrealm? Oddio, no, aspetta, aspetta. Qua sarebbe questo. Ecco. No, no. No, qui si mette il bottone. Così parte quando vuoi tu. Va bene. Metti il bottone. Passami la rotaia. Prenditela. Dov'è? Questo sì. Ah. Poveaccio. Qua. E via. Oh, Jesus. Tu vai, ragno. Immagina non poter fare un bottone perché non hai materiali per farlo. Adesso andiamo a farci un po' di forza a livelli. Allora sei meglio te, Leo. Non ho capito io. E hanno livellato. Allora, qua ne serviranno di più per la salita. Beh, vediamo dopo quanto ne servirà. Adesso per fare un test. Mamma mia, sti animali in acqua. Ah, c'è un drowned. C'è quella roba lì? Berta, faccia un po' di torce. Eh, vado, vado. Oh? Tanto di carbone ne abbiamo tantissimo, quindi. Andiamo, Gervaso. Ma che bel materiale, cos'è? Cosa? Rampicante piangente. Rampicante piangente. Ah, sono quelli del Nedur? Sì. Ma come a tutti i due lati? Ma perché? Oh, no, la parte è in oro. No, ma dopo dove... C'è il... Se andrà dall'altro lato è per tornare in qua. Questo va soltanto dritto. Oddio, adesso le ceste sono tutte altrove. Ma è senso unico, tranquilli. Poi facciamo che gira, capi? Eh, se no... Se no è brutto, cosa ci serve l'altro lato? Cosa, vuoi buttare dentro un roba cazzo? Altrimenti dopo un'altra geneva. Ti conosco. No, volevo... Volevo provare a usare il granito polisciato per fare i muri, ma... Suka. Madonna. E' questo schifo. Blocco di verruca del nether. Ah, verruca. Porto anche le torce di redstone, Fiemic. Sì, sì, porta pure. O lei già? Ehm... Ero mutato, scusate. No, non le ho le torce... Ah, le torce di redstone, ma non servono. Penso... Secondo me voglio fare con le levi. Ah, vuoi usare solo le redstone ripite? Ah, no, non serve a nulla. Ho già messo questo... No, 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 guarda. Ti faccio vedere cos'ha. È il cazzino. L'activator, sì, sì, hai ragione. Allora... Siamo le torce normali per illuminare. Adesso te le porto. C'è la cesta delle torce. Ah, c'è la cesta delle torce. Sì, appena entri vai un po' dritto sulla destra sui barili. Ho visto. Ok. Ecco lo zoom. Stia lì! Ecco. 3, 4, 5, 6... Siamo veramente senza ritegno. Perché? Boh, perché abbiamo monopolizzato il server. Siamo fortissimi. Eh, perché noi siamo uniti. Gli altri ci stanno tutti per i cazzi loro. Ma che bello. Noi diamo il concetto di amicizia ai nostri follower. Esatto. Ciao, zombie. Dammi expert. E di oppressione degli altri, soprattutto. Non rompetemi i ribaldi, piglins, per favore. No, non ho lasciato Cervaso. Cazzo. Ma qua che ruspa, ragazzi? Mi sto costruendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre. Sì, in salita ne serviranno di più. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Ne mettiamo il doppio, raga. Uno, due, tre, cinque, uno, due, tre. Se mi faccio la lavatura in oro adesso, è troppo tardi? In che senso? C'ho i piglins che sono babbiati perché non ho la parte in oro. Se la faccio adesso... No, no, fai in tempo, fai in tempo. Cioè, ma hanno già visto che sono babbiati? No, tranquillo. Fatela e smetto di non prendere il cazzo. E dagli un blocchetto d'oro in mano, scusa, dai, un lingotto ce l'avrai. Eh, no. Non è... Ma se ti dà un lingotto sono felici? Sì. Sì, un botto. Si distraggono. Ma anche un sacco. Cosa? Devo dare un lingotto a tutti? Ma non so, droppali, si distraggono tutti. Buttali, buttali in gotti. Ok, vabbè, intanto sto andando all'esplorazione. Tanto non è che mi fanno anche gran che danno. Vero? Ma sì, ma puoi anche ignorarli, sti cazzo. Ok, ignoro, ignoro. Signor... Signor... No, Creeper no! Creeper no! No, 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 no. Non hai capito un cazzo, ci ho messo duecento anni. No! Gervaso, sei un fazzo! No! Ma no, no! Ecco, poi sistemerò, ragazzi. Sei vivo, Gervaso, brutto cretino! Cosa ha fatto Gervaso? Stavo inseguendo un... Uno zombie e si è catafottuto giù da un dirupo. Grande, Gervaso, eroe dei nostri tempi. Mangia, mangia, mangia un carnino. Bravo. Sposti col pistone, non ce l'ho, ragazzi. Dove potrei farlo. Ver tra le fiere che essere tipo... No, vabbè, se ne fiere. Esatto. Ok. Bravo, Gervaso. Ah, quindi... Dove le hai messe le rotaie finora? Adesso ti faccio vedere. Eh, c'è il blocco... Ah, ok, no, pensavo nelle ceste. No, no, no. Devo anche tornare indietro dopo. Cos'è la prima legge della robotica? Cosa ha fatto Stepney di Bello? Il golem? Ah, può essere. A me è venuto higher the help. Ok. Puoi provare qui... Ah, il minecraft ce l'ho io. Vabbè, vieni... Eh, ne prendo... Ne faccio uno anch'io, ne faccio uno anch'io. Va bene. C'era altro oro. Gervaso, vieni qua che ti metto Ananda. Stupido cretino. Sì, sì, la parola c'è lì, poi te lo dimentichi. Già hai messo Ananda un altro cane che non troverai mai più. Gervaso in un posto bellissimo. In paradiso? Ecco, no, non proprio. Metallo. E quando tutto sarà finito ci sarà solo il metallo. Forse devo migliorare la salita iniziale, comunque. Quanti golem stanno facendo i Mates? Eh, mi sa che sono presi un po' male. Perché li abbiamo costruito vicino. Dici che è quello? Boh, non lo so, magari si sentono un po'... Non lo so cosa stanno facendo. Vedo gente che salta, ma non so chi sia. Adesso mi mandano contro i golem. Comunque casa nostra effettivamente è circondata dai comostri. Abbiamo la... Questo orrore. E in più c'è anche il... Oh, non l'ho fatto il bottone perché sono un bonobo. Abbiamo anche lo spawner dei mob che è orripilante. Ok, ho ufficialmente finito le rotaie. Però sono arrivato praticamente alla fine. Più che altro ho finito quelle normali, ecco. Vegas ha detto che è bella l'autostrada. Potrebbero anche dircelo a noi, eh. Non soltanto in line. Uuuuuh! Uuuuuh! Ma il problema è che non mi sono sentito le coordinate per tornare a casa. Le coordinate di cosa? La tua salita ha un grosso problema. È quella iniziale, vero? Sì. Già. La vengo a fixare, la vengo a fixare. Sto arrivando. Non funziona così. Cosa non funziona? Fammi vedere se funziona in un altro modo. Oh, merda! Funziona Bertra, aspettami. Sto arrivando. Ho commesso un grave danno. Però non si può tornare indietro, eh, sappilo. Cioè, l'ho fatto a senso unico. Anche perché ho pensato, se devo usarla più gente, è un casino aver soltanto una rotaia. Ne faremo due. Eh, sì, 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 infatti. Quello sì, quello ci sta. Anche perché larga due, sarebbe brutto averne uno solo, giusto? Esatto. Da questa. Vediamo un po' se ho fixato il problema. Adesso, ce l'ho io i binari per attivarli. Come fai a fixare il problema, scusa? Ho fixato. No, no, perché il tuo problema era solo un piccolo problema di posizionamento. Perché hai messo l'activator sulla salitina e quindi non si attiva la powered. Ah, come? E li ho invertiti adesso. Ah, ok. E anche la pelle va dato. Che roba strana, va bene. Adesso riproviamo. Vai. Se farmi un lavoro davanti ai piedi, c'è rabbia, no? Vero? Sì. Ok. Ok, un enderpearl. Hai vinto un enderpearl. Ho messo una leva, ma è meglio il bottone, perché... Sto pensando c'è abbastarlo. WEEEEEEE! Ragazzi, festeggiamo! Arrivo! Piangete! Piangete di felicità! Piangete! 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 Abbassiamo l'audio. Mettiamo la musichina, vai! Guarda qua, che bello! Guardate che bello! L'autostrada Benetton! Mamma mia! L'autostrada del sole! Oh, sì! Bellissima! E il sole c'è, effettivamente! Guardate qua! Piangete! Emozionati! Mamma mia! Grazie Gianni Joe e LOL dei sub! Benvenuti! E niente, l'hai ucciso, Fieri! Ah, eh, vabbè, non lo sapevo ancora! Adesso li fixo! No, Fale, chi è arrabbiato con me? Adesso fixiamo, adesso fixiamo! Vai, vai, fixa, fixa! Allora, questo va qua! Ma come stanno piangendo! Bravi, ragazzi! Sì, qui non è arrabbiato con me! Tutti i pigli in ora sono arrabbiati con me, o solo quelli che mi hanno visto? Ma scusa, non è dell'oro? Sì? Perché CiccioGamer è arrabbiato con te, Leo? Perché CiccioGamer? Non lo so, ho capito, CiccioGamer è arrabbiato con me! No, pigli, l'ho detto! Bertra insulta CiccioGamer! Bertra insulta CiccioGamer! Perché lo insulta? Bertra dissing a Ciccio! Ma non è vero! Ma non è vero! Chatto, Bertra dissing a Ciccio! Ricaricate questo estratto di live! A posto! Pare quella volta che Emerald ha dissato Lion! Mamma mia! Veramente senza ritegno, Eme, che insulta Lion così! Ah, minchia, me lo ricordo! Ma non si vergogna neanche un po'? Mamma mia! Immagina dire certe cose poi! Ma quello che vuoi è per caso vicino al centro città? Non particolarmente! Perché è un problema, non so da che parte devo andare a produrre dal Nether! E ti piace più il dolce o il salato? Un po' il dolce, perché il dolce è troppo dolce! Ma quindi è nel... Cioè... No, non le ho, mi dispiace, no! No! Spingimi! Spingimi subito! Ehi! Wiii! Vai, Barto! È vero... Spera, anche io, anche io! Vieni, vieni! Eccomi! Mamma mia, l'autostrada del sole! Piangete! Piangete ancora! Guarda che meraviglia! Ma c'è un creeper insieme al... Ah, cazzo! Vabbè! Oh no, finisce adesso! Eh! Ah! È finito! Aspè, posso... Ne ho fatto... Ne ho degli altri! Non importa! Ah! Bonk! Oh, scusa! Ahia! Per il carrello! Ina! Io allora mi sa che adesso vi saluto! Niente, l'ho restato! E' stato un grande piacevole! Berto, ti saluta e continua a giocare con noi! Ci va ciao, Berto! Ciao, Leo! Ciao, amici! Continuiamo a giocare assieme! Sembrava molto inquietante detto così! Bravo, Leo! Mi piace! Dove vai? Perché ci lasci? Vado a fare la cacca! Allora puoi tornare dopo, anche! No, no, devo... Devo fare delle cose! No, no, non è vero, devi fare un cazzo! Ragazzi, Berto, non ce la vai perché non vuole stare con noi! Ma su tre ore e venti che sono in live! Cristo! Berto, non ci vuole più bene! Vi mando da Leo! Mi raccomando, è una sorpresa! Non diteglielo! Cioè... Mantagli da Fieric che lui sta ancora facendo l'autostrada! Io sono perso nel Nether! Fategli una sorpresa in cui scrivete... Ti ho fatto un ride! Così non se l'aspetta, ragazzi! Mi raccomando, eh! Ok! Fate il ride! Però... Però... Non ditelo! Dannazione, mi ci sono bagatti gli alert! Eh, niente, ragazzi, ho gli alert a bagatti, non riesco a capire... Ragazzi, se succede qualcosa di importante potete farmelo sapere che ho gli alert che non vanno! Quindi tipo se c'è qualche ride importante, roba del genere... Non mi fa un culo, Leo! No, non me ne accorgo! Potete scrivere... Sto detto che sta simpatico! Sono molto felice! Piacerebbe anche sentirlo su Discord! Però... Vabbè, penso vogliono stare insieme loro, quindi... Li capisco! Peccato! Anche a me su resta molto simpatico, soprattutto quando recensisce i coltelli! Ditegli che anche lui mi sta molto simpatico! Ok... Eric, sono persos! Eccomi, scusa! Eh, sono persos! Non so tornare! Nessuno mi dà le coordinate! A che coordinate sei? Eh, sono qua attorno allo spawn che fermavo... Il quarto, ma non so dov'è che è il... Tale! A che coordinate sei, però? Eh... 26 meno 83! Boh, in genere vado sempre più vicino possibile allo 0-0 quando... Sento che il portale era sullo spawn, che era 0-0 effettivamente! Sarà anche quello a 0-0, giusto? Non lo so... Non ne ho idea, Leo! Può avere senso come cosa? Non ne ho idea, Leo! Io non ne so ste cose! Può avere... Può avere... Chat? Può avere senso? Leo, caro... Aspetta che vengo, visto che tanto ho già capito... E qua il Benetton deve un attimo sporcarsi le mani... Ok, arrivo! Portare l'80-40... Beh, dicono tutti i coordinate diverse, vabbè... Porca puttana, sto qua mi butta giù, sto qua mi butta giù... Sto qua mi butta giù... È Stepney che non ti vuole? Ha appena sgridato Suri perché parla con te... Ma dai! Stepney ce l'ha con noi, ma c'ha pure picchiato i villagers! Siamo noi che dobbiamo avercela con lui... Stepney dirà e facciamo picchiare lui dai villager... Tipo sacco da boxe... Vendetta vera, non finirò in galera, tu c'è Baldazze! Ecco! Gra, gra, gra! Grande Matteo Baldazze! In classe con mia cugina, le medie! Che belli questi flex qua! Eh beh... Strandi ma giusti! Strandi ma giusti! Allora, io... Cioè... Io sono originario di Pianoro, guarda che Rastignano è in frazione di Pianoro, ce l'ho letteralmente di fianco a casa! Non sapevo questa informazione, grazie! Lo sai almeno che Rastignano è Bologna? Sì, quello sì, so che è arrivato da Bologna! Ecco! Io sono... I miei primi 18 anni, prima di trasformarmi da mia nonna, sono stato... Cioè, sono nato e cresciuto in un paese chiamato Pianoro, ok? E tra Pianoro e Bologna c'è Rastignano. Cioè, Rastignano fa parte della... È una frazione del comune di Pianoro. Comunque sto arrivando! Io sto fattendo maiali da un quarto d'ora, praticamente. Ah beh, Stapeto! Ma quanti ce ne sono?! Allora, il portale ha coordinate 40-40, più o meno. Ok, grazie. Ci sono. Eh, comunque si immaginavo... Stapeto che... È ovvio che non... Non si possano sentire... Cioè, non possano nessun disco con noi. Lo davo per scontato, sono in quattro tutti nello stesso stream. Non è che uno può venire a parlare con noi, giustamente. Non ha senso. Ok, poi l'altezza... Ecco, l'altezza... Però... Era per dire che mi dispiaceva, perché anche a me sta simpatico. 40-40. Ah! Poi l'altezza, beh, è a 69. Anzi, 68, purtroppo. Grazie, Giozzeri, Gianni, Gio! Grazie di sub, ragazzi. Benvenuti. Stapni sta rubando. Stapni in casa vostra. Niente, ragazzi. Vabbè, comunque le coordinate te le ho dette. Adesso devo andare a salvaguardare casa nostra, che ci stanno derubando! Vai, vai. Anche se non penso. Sono bravi. Cioè, Stapni ha solo picchiato i nostri villager, però ha tolto quello e non ha rubato. Neanche liberati. Le hanno solo un cartello di scusa. Ci ha messo mezz'ora per rimetterli dentro le loro porticine. Ha messo un cartello di accusato Suri, oltretutto. L'ho visto, l'ho visto il VOD. Non mi fregate, è stato Stapni, ho visto. Anzi, Suri era lì che cercava di difendere i villager e diceva, no, no, poveretti. E poi gli rovini la farm di villagers. E Stapni, ma sì, chi se ne frega, li picchiava. Sappiamo che stanno. Quindi la Spillager avranno quattro HP in croce? Non lo so. Voglio trattare solo qualche pugno, dai, forse un po' di più. Ma cazzo... Qualche pugno per rimetterli in gabbia. Stanno usando l'autostrada. Vabbè, va bene. Tanto non è che possano fare tanto. Qua sopra? Oh, eccolo qua al portale. Usate pure l'autostrada finché potete. Poi con il pedaggio ne riparliamo. Ok, questa c'è. Questa ce l'abbiamo adesso. 40, 40, 69, ok. Ripartiamo l'esplorazione. Ma sei ancora nel nether? Sì, sì, ho trovato il portale, ma mi servono comunque i livelli. Quanto ti serve ancora? Sono a livello 25. Ah, devi arrivare al 30 di enchantare qualcosa. Vabbè, ma tanto possiamo farci... Allora, ma se noi ci facessimo... Facessimo riprodurre i villager, potremmo avere tutti gli enchant che vogliamo? Quello sì, è vero. In realtà adesso volevo fare una farm di esperienza con le alghe io. Che è piccolina, non ci vuole tanto. Sì, ci sta. I nostri bambù. Piccoli che non possono crescere per l'albero, però piano piano. Poi è anche un megaprogetto per il nether, ma quello devo farlo più avanti. C'è un cane con una lampada in culo qua, come mai? Vabbè, non facciamo domande. Oh, che bellezza scavare nel nether. Non so dove mettere i libri, metterlo qua dalla tramoggia. Dai, ci stanno bene, effettivamente. Allora, ferro! Io non l'ho fatto, effettivamente. Vabbè, vabbè. Allora. Ok, eccolo qui qua. Non ce ne serviranno un'infinità di binari qua. Ha voglia se ce ne serviranno. Tic, 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 tic. Servono anche questi. Uh, brutto, brutto, brutto. Non servono le torce redstone, Dio Cristo. Fuc, va bene, non scavo più di là. Oh, però qua mi serviva. Ma sento farmi di esperienza il quarzo e la roba più veloce? Eh, non ne ho idea, onestamente. Sono tutte le torce. Ci sono modi più veloci per fare esperienza? Per sé? Vabbè, senza lo spawner penso di sì. Il quarzo... Ma poi picchiare anche... Cioè, se hai una buona armatura puoi metterti a picchiare anche i pigmen, tanto, voglio dire. Non è che ti one-shotano se c'hai tutto indiamantato. Può fare anche così. Eh, vabbè, farm di Enderman. Grazie al cazzo, ragazzi. Eh, grazie, ragazzi. Non abbiamo l'enda. E neanche la farm, tra parenti. Neanche le farm. Mi ha riferito il mod dei mates che da studio si è difficile stradisco e quindi non riesce a venire su Ori. Peccato. Però sono felice che l'abbia preso in considerazione. È sempre il benvenuto, come anche tutti gli altri. Tranne Stepney, finché non mi chiede scusa per aver picchiato i villagers. C'è andato Stepney che ci picchia i villagers. Mannaggia. Bullismo sui villagers. E comunque tranquilli. Ma io la picchierei anche te, mi spiace. Questa è l'esperienza che non mi ha dato. Ok. Oh, sto usando la ferrovia. Piangete! Oh. Sì, posso lasciarlo lì. Brum, brum! Che meraviglia. Vabbè, un po' di livelli c'è già. Vado a casa e mi faccio la mia farpa. Ah, ok. Via vicenda. È diventato boot. Ma che cazzo? Dovrei fare poi il portale. Ho scoperto che il rumore dei binari è creatura amichevoli. Cioè, sono amici di tutti i binari. Eh, sì. Niente. Ho abbassato l'umore... Se è glicciato. L'occhio, l'ho visto adesso. Come? L'ho visto adesso l'occhio di poldo. S'è stato meglio in redstone. Ma i mates stanno Trump wallando proprio. Ne vogliono sapere. Trump wall... Stanno facendo il muro di Trump qua. What the fuck? Come non tagliarsi fuori? Non lo so. Guarda lì che cazzo. Ecco. Casa di M ha poca redstone. C'è nether. Blocchi del nether. Secondo me dovrei aggiungere di più. Online no. Molto bene. Allora. Riprendiamo la costruzione. A pochi blocchi del nether è me in casa. Ok. Dov'è fare le cose bene. Oddio, uno mi ha mandato un whisper. Come faccio a rispondere col whisper? Esce msg, spazio nome e poi scrivi. Confermate che M ha pochi blocchi del nether. Confermate? Ok. Uno, due. Uno, due. Cioè mi pare... Cioè mi pare... Cioè mi pare... Cioè mi pare molto più carina casa di M. Cioè vedete che adesso è molto più bella col rosso. Cioè che dopo mi puoi venire un attimo a vedere se casa di M secondo te è carina così? Cosa li hai fatto? Ho messo più rosso. Perché non vieni a darmi la mano qua piuttosto? Arrivo, finisco di rosseggiare casa di M e ci sono. Precisa. È precisa. Te la riempio tutta. Ma sai che quasi... Te la riempio tutta. Povero Eme. E se se la prende? Eh se se la prende mi spiace. Oh cazzo. Ci darà fuoco a casa nostra. Sta maledettissima chest. Mi lascio fuori un cartello con su scritto vedi di ridarci i 24 diamanti. Onesto. È un avviso. Sì sì. Non è una minaccia, è una promessa. La mia prof diceva sempre così. Non è una minaccia, è una promessa. Ok. Va bene prof. Non lo faremo mai più. Te che te. Ok. Via sta roba qua. Cinque, sei. Penso di aver trovato una cesta segreta senza volerlo. Ok, io non posso. Così, 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 così. Lo so ragazzi, non è molto. E' molto emozionante la costruzione qua. L'autostrada? Forse viene qualcuno su Discord. A me sono quattro giorni che sto costruendo le stesse piattaforme uguali identiche sugli alberi. Buonasera. Eccoci. Stiamo costruendo l'autostrada. Ho visto, gran lavoro, complimenti. Grazie, grazie. Sono venuto a patteggiare. A patteggiare. A patteggiare riguardo. Ah, niente. Mi serve, voglio uno scambio. Ho bisogno di una verruca. Gli serve una verruca, Leo. Verruca ne abbiamo, ne abbiamo. Ok. A noi cosa serve? A noi serve forza lavoro. Nova chi è? Il bodyguard? Eh? È il bodyguard? Io sì, devo stare a distanza. Nova è il mio schiavo. Ah, no, no, no. Vedi che piange. Ah, zitto, schiavo. No, zitto, allora. Zitto. Ecco. Niente, va bene. Ho capito la gerarchia a casa vostra. Va bene. No, no, no. Allora, qui dico una cosa. Prezzo sarò presidente, signor Fiaricca. Mi renderò presidente della città. Vabbè. E guarda, noi abbiamo già avuto un'opera per tutta la città. Quindi mi sa che hai già perso in partenza. Guarda qua. Oh, no, no, no. Tu cos'hai fatto per la città, scusami? Noi abbiamo un'autostrada per adesso alle spalle. Tu, invece, il portale del nether. Venga, venga con me. Venga con me. Schiavo, stai lì in fondo. Ecco. Ci vuole pure candidarsi. Mamma mia. Sì, no, vabbè, ma lascia perere, guarda. Nemmeno il pato non ne ho avuto. Mi servirebbe una verruca. Allora. Un paio di verruca, qualcosina. Vediamo un po' uma uma. Con forma. Cioè, Nova è il suo schiavo. Ho fatto tutto quello che vuole, giusto? Eh. Sì, più o meno sì. A noi serverebbe una mano a costruire l'autostrada. Se magari qualcuno... Dai, ci dà Nova. Attualmente, attualmente mi sta dando una mano a costruire una cosa per me, però appena abbiamo finito può dare una mano a fare quello che volete. Ok. Allora, eh... Boh, Leo, possiamo... A noi serve qualcosa, Leo, che magari ci manca. Forse lana. Lana, ci serve. Ma ci abbiamo le pecore. Come fa il servizio della lana? Eh, perché abbiamo poche pecore. Cioè, davvero non ci serve niente, Leo. Qualcosa per la casa. Possiamo... No, sta rompendo. Oh! Eh? Possiamo offrirle anche dello smeraldo, se vuole. Mmm. Abbiamo anche quello. Chat, ci serve qualcosa? Io non so se ci serve qualcosa. Un po' uma uma. Mmm. Occhiolino. Ok, ma voi avete... Eh, cosa ci può servire? Se vuoi ti faccio scocchiare le dita dei piedi dal mio schiavo? No, 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 mi scusate. Innanzitutto, allora, no. È una copertura. Allora. Allora. Questo è interessante. Ok, ok. A parte il fatto che... Ti poteva piacere come idea? Capoli sessuali. Allora, 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 allora. Parliamo chiaro. Ti saranno dovuto più del letter. Innanzitutto, signor presidente, ecco. No, allora, no. Mi scusi, devi stare dalla mia parte, non dalla sua. Mi scusi. Ma manco il padrone ti vota, no, va. Sì, mi scusi. Ma non è il mio padrone. Era una copertura. Allora, no, no, no. Manco il padrone lo vota, ragazzi. Ne vedete conto. Allora. Inchilati al presidente, no, va. Sì, ecco. Ma ho già dei voti. Mi voterai. Vediamo dopo, dai. Ragazzi, incredibile. Io sono il signor Benetton. Non so se è chiara la situazione qua. Cioè, qua abbiamo tutto. È tutto sotto nostro controllo. Qua c'è già il ponte. E abbiamo già pianificato anche il crollo. Quindi, ormai abbiamo già tutti. La vittoria è in tasca. Io le ripeto. Ci saranno poi i dibattiti. Sì, sì, sì. E la vedremo. Va bene. Io sono sicuro. Io sono sicuro di avere una buona carta. Ok. Va bene. E adesso parlo con quelli poi tu spostati. Vai via. Ma scusi, scusi. Ci dà fastidio, ci dà fastidio. Ecco, signor Fabio, lei è una persona di un certo spessore. Lei, per caso, ha un villager o libri con unbreaking? Un villager o libri con unbreaking? Eh. Schiavo. Ma che schiavo? Non sono schiavo. Schiavo, presidente. No. No. E no, non ne abbiamo in realtà comunque. Non ne abbiamo? Vabbè. No, non penso di averli. Dai, ci accontente. Quanti smeraldi avete con voi? Dieci ne abbiamo. Beh. Sai che data giorno c'è tipo fatto il calcolo con Bertone? Sono spariti i dodici del nulla. Ma potrebbe essere una... Riprenderli. Ne abbiamo dodici. Ne avete dodici? No, ne abbiamo dieci. Ne avete dieci. Dieci in realtà, sì. Va bene, Leo. Dieci smeraldi per la verruca? Tanto poi si moltipliccherà. Se per voi il trade va bene, vi do il diritto. Dieci smeraldi per la verruca. Dieci smeraldi per la verruca va bene. Perfetto. Va bene, va bene. Ok. Purtroppo è a senso unico ancora, quindi dobbiamo farcela a piedi, se non volete costruire con me. Quindi, niente, dobbiamo andare a piedi. Voglio dire una cosa, Fierica, ma lei cosa... Che progetti ha da presidente? Poi ha già qualche progetto? Certo, darò la possibilità a tutti intanto di farsi il portale del Nether, così non dovremo andare in quello cittadino. Quello cittadino sarà molto più grande e faremo, attenzione, attenzioni, un'autostrada che avrà allacci da tutte le abitazioni. Ah... È una bella proposta, ma... È una bella proposta. La manterrà, signor Fieric. Guarda, questo è quello che abbiamo fatto in due ore, quindi potete soltanto immaginare. Adesso senza neanche essere già stato eletto. Esatto. Lo stiamo facendo così, per benevolenza. Assolutamente. Non per promesse, per voti come qua. Ma costruirà anche il muro, signor Fieric. Il muro è... Il muro cosa? L'autostrada? No, no, è il muro, il muro. Ah, il muro... Che separa... Ah, eh sì, l'abbiamo già costruito intorno a casa dei mates. Vedete, li abbiamo già sigillati. Lo potete ben notare. Non so se li avete notati. Guardate, si vede da qua. Quelle persone lì non le voglio mica. Ah sì, ecco, vedete? Sono venuti da rubare prima i mates. Sì, sì. E infatti, come vedete, sono finiti tutti lì dentro nel muro. Niente. Ottimo. È tutto trampollato ormai. Perfetto. Guardate qua che bella autostrada. Poi faremo i pilastri. E comunque posso... Guarda, da candidato e concursi posso dirle la foto del lavoro. Grazie, grazie. Comunque si va verso i dodici mesi. Eh, Nova, ma dai, da candidati possiamo anche darci del tuo su via. Allora... Lei mi sembra un po' troppo formale qua. Che bella casa di Evo. Ma la casa qua vecchia del signore M. Parrins avrà demolita? Ovviamente sì, ovviamente sì. Con una bella ruspa e faremo esplodere tutto. Ottimo, ottimo. Ok, benvenuti nella casa più bella del server, a mani basse. Ma scusi, lei mi ha visto la nostra? Avevo visto l'albero pene. Poi non so se è migliorata, l'ho visto un paio di giorni fa. Eh sì, è respirata la Cappella Sestina, è fatta apposta. Ah! Una cappella... Cioè... È lo stesso... Leo, dove abbiamo la verruca? Prego, prego. Posso pulirmi i piedi? Permesso, permesso. Su Nova. Su Nova? Pulisciteli pure su Nova, certo. Perfetto. Mi scusi, no, col cavolo, fermo. Prego. Bello sta cassa stanza, comunque. Questa è la verruca. L'ha rubata Nova. Grazie. Ne apre caso due? Va bene. Non è negli accordi, ma va bene. Li dia due smeraldi in più, signor Ramollo. Ma ne abbiamo dieci e basta. Li caghi dal culo. Eh beh, perché... Ma si è ribaltata la situazione, ragazzi. Chi era il capo qua? Io. Io. Lo switcho. Io. Con lo schifo. Secondo me sono tipo mistress e schiavo qui, in quel senso. Presidente. Non lo so, ragazzi. Perché me lo scambiano. Va bene. Allora, se vuoi ti posso dare una patata. Anzi, anzi. Oddio, ci manca le patate. Ti posso dare... Sì, effettivamente. Abbiamo i semini, però. Una golden carrot. Eh, ma non si può piantare. Eh, ma non si può piantare. Oh, grazie. Allora, e... Purtroppo la carota ce l'abbiamo, Leo. La carota? Non lo so, sai. E la patata ce l'abbiamo? La carota penso di no. Avete per caso patate e carota? Sì, patate per le biancotte. È biancotte per le patate. Se ce n'è una cruda, sono disposto a darvi anche... Non lo so, avete bisogno di infinity, mending? Cos'è? No, infinity non è mending, no. Cos'è che ha poi? Interessante. Infinity, mending. Ci abbiamo efficiency 4. Ah, è importante. Per me stiamo cercando le targhette. Le targhette stiamo cercando. Vabbiamo un po' a vedere. Qua c'è un villager che lo trada con 15 smeraldi. Se le portiamo le patate, possiamo avere due targhette? Due targhette sono 30 smeraldi. Non so neanche se li abbiamo, onestamente. Ma direi proprio di no. E se portiamo... Ascolta, ascolti, ascolti. E se portiamo una patata e 15 smeraldi? In caso mai portiamo noi gli smeraldi? Una patata e 15 smeraldi? Allora va bene. E una carota, possibilmente. Ci mancano anche quelle. E vediamo... I 15 smeraldi, gli altri 15 li mettiamo noi. Va bene? Va bene. Va bene. Sono due targhette, però... Due targhette. Sì, una però ce la mettiamo noi come smeraldi, l'altra la mettono loro. Questo, Leo, dice. Ok, per una patata e una carota, onesto. Va bene. Perfetto. È sempre un piacere fare affari con voi. Sempre un piacere, sempre un piacere. Arrivederlo, arrivederlo. Il libro con Infinity in omaggio. Grazie. Apprezziamo. Ma scusa, Pieri, che hai appena dato due targhette per una patata e una carota? No, una patata e una carota. E una targhetta è loro. Cioè, nel senso, noi abbiamo il villager. Ah, ok, capito. Ok, ok. E dieci smeraldi già ce li ha andati, quindi dobbiamo metterci cinque smeraldi. Così almeno possiamo fare la farm di patate e carote. No, no, sono bravo a trattare, ragazzi. Sono bravissimo a trattare. Non lo so, mi sarebbe avuto un po' uno scambio così, ma vabbè. Ma no. Cioè, la patata e carote, una volta che ne hai una, si moltiplicano come i topi. Cioè, capito? Quindi... Cioè, le targhette sono rare. Ma ci abbiamo il villager. Quello è vero. Ci abbiamo il villager. Dove sono gli smeraldi a proposito? Leo, abbiamo gli smeraldi? Ne ho dati tutti a te. Ah, li ho messi da qualche parte. Lo so di trovarli. Ah, ok. Sono di là dal... Dal... Ok, nel cestino di qua. La tonda. Davanti a casa DM sto farmando livelli su livelli. È pieno di mob. Ma pieno. Ah, minchia. Ecco chi li ha tutti, mob. Bastard. Li ha tutti lui, mob. Ehm... Cazzo devo cercare qua. Webcam. Merda, è caduto tutto. Prova la texture pack della Napoli Craft. Sto facendo livelli che è una bellezza. È strano. Ah, vedo che manca ancora. Ah, ok. Qua ci sta il cibo. Avevamo una patata al forno noi. Cotta. Vabbè, non si può piantare però. Noi sarei piantare, quindi niente. Guardate le patate, io le ho sempre schifate, non le ho mai portate a casa. Eh, ho capito, ma sono cibo infinito praticamente, quindi è comodo in realtà. E poi nel senso, tanto abbiamo infiniti questi materiali qua, quindi cosa ci cambia onestamente? Spero, è vero. Scusate, l'ho sceso il pollice, è molto arrabbiato questo qua. Eh, questo qua non gira più, serve leggio. Bisogna mettere leggio, mannaggia. Serve leggio, ragazzi. Che è che questo qua? Anima? Anima. È lì a casa di Eme? Sì. La Soul Sand ce l'abbiamo, che dobbiamo piantare le verruche che stanno qui. È nella cosa del... nella cesta del Nether. Quella con sulla cosa. Eccola qua. Soul Sand, eccola. Abbiamo un sacco di smeraldi, molto bene. Che hai fatto a casa di Eme? Triggered. Ci stavano delle torce ogni tanto. Ok, qua. Soul Sand e il leggio stava. Trapparente sì, i creeper che ti esplodono addosso lo vanno troppo danno, troppo. Siamo in diffic... No, è difficoltà normale, non ho one shot neanche. Pare un po' strano che facciano troppo danno. Ok, niente, ci hanno distrutto il portale qua, è ufficiale. Eh sì, finché non sale al potere, quanto pare che sarà distrutto. Eh, per adesso l'ora lo tolgo, così faccio... Ho preso Nova. Nova che mi ruba l'esperienza. Oh, ladro. Bastardo. Conostrò il potere, Nova... Lo mettiamo nel... Non ruberà più l'esperienza. Non ruberà più, esatto. Grazie The Decision, grazie Dark Snow, Luca Comelli, Samuole Beatbox, Jack. Grazie dei sub, ragazzi, gentilissimi. Allora. Ok. Ah no, ce l'avevano già, ma che cazzo? Ce l'avevano già la patata? No, non la patata, no, no, no. Ci avevamo già la piantagione, me l'ho dimenticato questo. È qua da fissare comunque. È piccola, ma tanto non... Cioè, non ne servono tante di verruche. Anzi, no. Cioè, abbiamo 37, con una ne fai tre pozioni. Poi, chissà quante pozioni che facciamo, nel senso. Cioè, in realtà, tra parentesi, nella Ender Chest, io ho una pozione di... Quelle contro le resistenze per fare i villager. Oh. Quella di debolezza, come si chiama? Sì, pozione di debolezza. Allora, aspetta, devo fare un po' di... Ok, devo mettere l'EGO qua. Effettivamente, senza l'EGO è un problema, non lavorano questi. Eh sì. E non so come piazzarli l'EGO. Hai fatto un casino qua che non... Non so da dove passare. A destra c'è uno scalino con sopra una bottola. Se tu elimini la bottola puoi metterci l'EGO. Aspetta. Non ho capito. Ma dove sei, scusami? Sei ancora lì? Sì, sto facendo esperienze. Oh, forse... No, questo che deve resettare i trade. Qua non si può perché... Il fabbro li ha resettati i trade, li ho messo vicino la cosa. Il fabbro sì che li ha resettati, certo. Sì, li ho messo vicino il lavoro lì. Eh, ho capito, ma qua ce ne stanno tre e c'è un leggeo solo. E questo è il problema. Questo è un grosso problema. Devo farla a casa da... Cioè, la cosa dei villager. Tra parenti, per la cosa dei villager, stavamo pensando l'altro giorno in chat, di fare in questo modo qui. Faccio quattro alberi vicino, in cui faccio una mega tettaforma con quattro tondi. Ok. E così, faccio proprio fargli la parte dove dormono, la parte dove lavorano, la parte dove si muovono. Eh, sì, ci sta. E se facciamo quelli da coltivazione... Certo, certo. Ci sta come idea. C'è la tartaruga. Quante ce ne sono? Una sola. Una tartaruga e un pollo. Una tartaruga e un pollo. Erano quattro tartarughe ieri. Eh, ce n'è una, non so cosa dirti. Mi vogliono le tartarughe. Mi dispiace. Mi vogliono le tartarughe. Non so come mai. Ce le avranno ammazzate. Cosa ti devo dire? No, no, penso che si paghino in qualche muro strano. Ai, ai, ai. Nelle slab, forse. Mi vogliono le tartarughe. Devo rimetterlo a posto bene. Eh, sì. Che palle mi vogliono le tartarughe. Eh, mi dispiace, Leo. Rip tartarughe. Ce ne fossero due, almeno, ma... Ce n'è solo una. Ho le uova. Ce le ho le uova. Allora, verrucca è il nether? No, la lascio di là. Questa, ok. La Poldo Tower è top. Sì, è fatta veramente bene. È bella. Anche qua c'è veramente un casino di chest. Faccio una fatica a capire cosa devo fare, che non hai idea. Adesso bisogna organizzarle poi. Cioè, io le ho organizzate perché non me le organizzo di solito. Ora vediamo di farle che stanno comode a tutti. Con tutti questi blocchi qua. Boh, l'ossidiana metto qua. Ecco. L'ossidiana l'avevo messa nel... Ok, nel coro del nether. No, sì, sì, va bene. Redstone. Abbiamo un secchio col pesce e palla. Ci hanno regalato, così. Ah, l'avevo io? C'era già. Me l'hanno regalato, non so che dirti. Non ho potuto rifiutare. Abbiamo due secchi, va bene. Ah, aspetta che prendo i materiali per fare un altro... Cioè, vuoi i libri una volta, ma non so più dove li ho messi. Ok, sono a casa con livello 30. Posso finalmente giantarmi... Io alcune cesto non so cosa servono, mi fanno una gran confusione. Tipo questa, qua ci sono delle bussole. Ah, quella lì a caso. Qua ci sono i libri, ok. Libri li ho presi. Ah, volevo fare il leggio. Servono delle slab. E me ne servono di più, le servono di più, lo so. Quello l'ho visto. Allora. Sì, posso fare direttamente questi. Oh, gli scarpini volendo. Allora, voglio dire, intanto andiamo da questa. Ok, devo fare un altro di leggia. Dirupo. Come dici? La libertà che è seduto su un dirupo. Eh, non lo so. Eh sì, c'ha... Così. Piedini che mi servono. Ok. Del nether. Ticcate. C'è un po' di blocchi di quarzo. La chat è solo poveri, non so se è solo poveri la chat. Non ci posso fare nulla io. Abbonatevi gratis con Amazon Prime pagando 4,99. Quattro? Quattro, sì. Sì. Ok. Ok. Com'è che faccio ad andare qua dei villager senza che scappino? Che senso? No, niente. Penso che ho risolto. L'ho risolto, ho risolto. Ma che se scappano, poi vabbè, li metterò dentro. Questo è qua, questo è qua, questo è qua, questo è qua. Ok, penso di aver fatto. C'hanno tutti il lavoro. Ok, nice, nice. Però questo non sta resettando. Non è che c'ha già il lavoro... Non è che c'è la qua al lavoro, è triggerato con questo leggio qua. Può succedere? Sì. Ok, togliere le quali là, tanto non è che è indispensabile lì. Adesso in teoria dovrebbe prendersi quello. Armature brutte qua. Ecco. Tolle qui dentro. Il volume va qua. Cosa dimostri anche gli occhi. Molto bene. Boh, continuo un po' con la costruzione. Qua gli altri sono spariti. Tutti morti? Oddio. Ok. Eh sì, sono spariti, non so che dire. Questo qua è la polvere qua dentro. Abbiamo un sacco di polvere da sparo, potremmo fare un sacco di TNT. Così, eh. Eh, lo so, ci abbiamo anche la farm là sopra. Allora, a me servono pantaloni. Questo, questo. Oppure... I libri dove li avevi messi? I libri dove li avevo messi? Li ho con meno 22. Ti servono? Vabbè, ti servono solo che adesso devo vedere un po' di enchant. Vabbè, puoi farmi un sacco. Cioè, la carta c'è, il... Il volume c'è. Basta uno per vedere cosa mi conviene enchantare. Ok. Ok. Oh, guarda le smeraldi che abbiamo. Dunque, qualcuno ha detto che Steppi ha fatto vedere l'IP del server, ma in ogni caso bisogna essere whitelistati, quindi non penso sia un grosso problema. Se volete. Sì. Non so se è vero o no, però in ogni caso bisogna essere whitelistati. Attenzione. Vabbè, aspetta di poco. Tutti schifo. Oh, si elimina pure. Tu dove hai il... Tu dove sei adesso? Nella... Nell'autostrada. Con lo scappo. Com'è il nuovo setup della Logitech? Aspetta di poco, è utile per il cibo. Beh, l'ha costernato tre mesi. È fighissimo, non l'ho ancora messo, l'ho fatto vedere oggi. Non ho fatto l'unboxing, però molto molto figo. Magari l'unboxing faccio stasera che porto LOL. Ecco, c'è assoluto ricchi. Ok, andiamo a vedere così. Sono stuck nella cesta dove c'è la tramoggia. Ah, vabbè. Che incantesimi di merda che mi sono capitati. Affilatezza tre. Cosa faccio? Eh... È una bella domanda. L'affilatezza tre un po' E poi disinchantarlo con la mola. Eh, appunto, vanno a perdere il livello 30, poi. Devo fare qualcosa che effettivamente fosse utile. Ah. Non hai altro da inchantare? Eh, no. Quando ti aspetto di fuoco sulla spada è buona. Faccio questo qua e vedo come va. Ti prego, fai cash bella. Fai cash bella. Ti prego. Così e così. Stupenda. Cos'è vuol dire che è creativa? Non li vedi i cuori? Come fa a essere creativa? Che palle. Oddio. Ma stiamo scherzando. È uscito solo l'aspetto di fuoco 2. Che merda. A parte che l'aspetto di fuoco non devi mai prenderlo, che è soltanto veramente un... È un tumore maligno degli enchant, quindi proprio lascia stare. Disenchanta subito quel, no? Quella di... Eh, via. Guarda, te la... Ecco la per disinchantare. Fieric, ti amo. Ah, è qua, è qua, è qua. L'avevo messa da lui. Oddio, così va? Perché non me la fa? Sì. Ok. Com'è che disinchantavo? Con la mola. Perché non me la fa fare? Non lo so, Leo. Devi andare lì, piazzarla e basta. È già qui. Non me la fa... Non so cosa dirti. Ah, no, perché mi... Ok, la mola sfezzata la mola. Grazie, Zagore. Grazie ai due mesi. Bentornato, bro. Ok, me lo prendi. Bentornato. La mola sfezzante. La mola sfezzante è buono? Vuol dire che sembrava in creativa. Ti fa fare più danno a OE, però. Cioè, è buono per la farm di Enderman e basta. Quindi no, in realtà. Pensa che dopo vado a livellare in miniera e via. Cioè, vado nel land e mi faccio un po' di roba. Adesso lasciamo così. Peccati, peccati. Perché devo farmi i piedini e i gambali? Quei due là mi mancano. Qua c'è un problema con il legno, ecco, perché non veniva giù. Questo albero. Ovviamente è brutto da vedere quando rimangono le foglie svolazzanti. Allora. Ora ci faccio la mia farm di esperienza. E via. La farm di esperienza ha detto che possiamo, giusto? Sì. Cioè, hanno vietato le farm di zero tick e quelle troppo sgrave. Come si chiama l'observer? Osservatore. Osservatore. Ok. Cobblestone. Tic. Non è bella Cobblestone. Vado a farla. In che senso aumentare la grafica? Senti render distance? No, è bloccata dal server. Cioè, essere a sto punto e non avere la Cobblestone è tipo, what the fuck. È di Cobblestone che la stiamo usando tutta. È l'autostrada per l'Italia. E ti piace più il dolce o il salato? Un po' più dolce, perché il dolce è troppo dolce. Come va? Ok, quanto mi serve ancora? Ho un dubbio che forse con l'observer. Ma cosa devi fare, Leo? Che farm è? La farm con le alghe. Allora, certo che con l'observer. Quando crescono, che tira giù tutto, cioè. Adesso vedo bene com'era. Mi rivedo il video. Oh, quante stack mi serviranno, ragazzi, ancora. Spero che tre stack bastino. Servono quelle con l'ovo. Oh, hai portato un po' di pepite, bravo. Minecraft. Alimentato. Era questa qua, sì, ok. Ok, fammi vedere com'è il progetto. Spero bastino, 31, tol. Ormai ho quasi finito anche il... Oh, ecco, li stanno arrivando. Niente, stanno arrivando i nostri amici a fare i trade. Ah, lui è nuova. Eh sì. Arnato nuova. Tac. Pronto, signori? Signor Fieric, buonasera. Signori, eccoci, buonasera. Allora. Siamo venuti a patteggiare. Ok. Ok. Eravamo rimasti per la patata e la carota. Esatto. Ok. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. No! Si rombolla lei gli smeraldi, vero? Sì. Perfetto. Ok. Allora, patata, carota, 15 smeraldi per le due targhette. Esattamente. Esattamente. Prego. Signori gentili, droppatemi che vi faccio subito il trade. Ecco le carote, la patata. Oh. E gli smeraldi. Molto bene. Molto bene. Diamo un po' se il signore ha voglia di lavorare, se no lo frusto un attimo. Ok. No, mi scusi, mi rego la domanda. Sì, sì. Tutto in regola, prego. Hai contratti che possiamo visionare? Non potete visionarli. Mi dispiace. Mi dispiace, ma è tutto privato. Leo, Leo, sono dei disturbatori qua. Sono dei disturbatori qua. Andiamo, signor Mallo. Ci andiamo, ci andiamo. Allora, leviamoci. No, ma sarei presa una volta la freccia del ginocchio da me. Eh, sì. Eh, forse ne vuole un'altra. Aioh. Ecco. Arrivederci. Arrivederci. Molto bene. Abbiamo vinto noi. Ok, spaventati un po'. Sì, sì. L'importante è far capire chi comanda qua. E l'abbiamo fatto capire chi comanda. Ok, io sto guardando qui. C'hai la zappa, Leo? La zappa? No, mi dispiace. Ce l'abbiamo. Una volta ce l'avevo la zappa. Non so neanche. C'è la zappa dentro, mi pare. Oh, eccola. Ok, ancora qui. Questa fa la fa con i pistoni un ingranaggio brutto, non mi piace. Qua ci saranno le carote e qua ci saranno le patate. Molto bene. Anzi, aspetta che prendo questo. E poi c'ho anche il piccone con fortuna, quindi easy. Aspetta, qua ci lascio la zappa, ho visto che può servire. Ok. Così. Io mi sto studiando un attimo la farm. Che esperienza. Scusate, qui... Signora Fieric. Sì, buongiorno. Si serviva il libro in omaggio anche. Siamo venuti a posta. Ah, quello con Infinity? Eh sì. Va bene. Adesso prendo subito, io sto piantando le patate. Ah, ma queste qua sono richieste, sanno fare. Sono richieste. Eh, ma... Sono poveri. Sono poveri, signor Pango. Cerca di capire. Sono poveri, purtroppo. Però è quello. Eh, la povertà. Ecco, ma qua, quanti ne abbiamo? Prego. Ecco qua. Con la freccia della spalla. Grazie. Tristissimo. Ecco. Ah no. Non è riuscita. Eh no, purtroppo non è riuscita. Arrivederci. 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 Ecco. Prendi l'arco, prendilo, prendilo. Dove sono? Dove sono? È qua sotto. È dietro l'albero. Sparagli, sparagli. Sparagli. Via, via, via da qua. Aspetta, devo poter farglielo finché li vedo. Dove sono? Dove sono? Là nel fiume, sull'autostrada. Prendilo. Forse lo colpisco. Madonna, quasi lo colpivo. Se lo colpivo è morto. Oh, l'ho hittato. Let's go. Ti immagino se li colpisco sono andati. Ma cos'hai, potenza 5? Eh, potenza 3. Però ho capito che... Dove sono? Dove sono? No, dove sono l'animatura. Ok, Valu ha lo scudo. Valu ha lo scudo. Vabbè, la posso tirare lì. L'ho presa in testa. Ok. Scusa, Valu. Penso di averlo lasciato a un cuore. Se era senza niente. Penso di averlo lasciato a un cuore tranquillamente. Tranquillamente. Ecco. E questa qua fa un disperanza che non mi piace. Ma sono ancora qui. Ma dove stanno andando? Dove sono? Niente. Sono vicini dalla nostra fama. Mi piacereò? Sì, sì, sì. Ok. Niente. Così imparano. No, prima l'ho preso in pieno, cazzo, mentre è sull'autostrada. Vedete che cosa la fa. Ok. È stupido questo. Sto andando a farm di gente stupida. Questa era la che volevo io. Ok. Ah, tu, Leo, per quanto è avanti con la live? Eh, non lo so. Adesso vedo, non penso tanto. Ok. Penso che tra la mezzoletta lascio lì. Perché in caso, Leo, se, visto io, volevo finire un attimo il tragitto, poi staccavo. Sopo c'è poca gente. Puoi andare un attimo alla farm di... Alla farm, al mob spawner. Ah, vero, effettivamente. Prendere un po' di polvere da sparo. Quindi, insomma. Grazie, frasamod per il sub. Bentornato, però. Tutto bene. Eh, la faccio dopo. La faccio più tardi. Cos'è che stai facendo? La farm di esperienza con le alghe. Ah, ok. Crea alghe che vanno in cottura e alghe che diventano carburante e si auto... Si, 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 ho capito. Non è automatica, però, vabbè, è la roba migliore che riusciamo ad avere adesso. Eh, si, ci si accontenta. Uccisus. C'è un disturbatore qua. Stai lì. Sto pensando se fare attaccata questa qua, direttamente, attaccata la cesta magazzino, anche la cesta lavorazione con tutte le fornaci, quelle robe là. Vedi un po' tu. E parla direttamente un albero attaccato. Perché effettivamente andare ogni volta che bisogna accocere qualcosa, lavorare qualcosa di là, non è comodo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Ok, comunque, sono a buon punto qua. A me mi ha finito, eh. Sto pensando, sto pensando. Le palle si criega. Le palle si criega, però. Probabilmente stasera facciamo tutto quanto. Stasera facciamo una mega live di 6-7 ore. Faccio tutto quanto. Capito. Bravo, Leo. Parto alle 9, si finisce alle 4 di mattina. E via. Giusto. E ce n'è, ce n'è da fare. Invece sarò sull'online ad unboxare il mio set KIDA. Oh, è arrivato a te. Che bello che è. Eh sì. Bellissimo. Tanta roba, tanta roba. Cioè, mi dispiace tirar fuori gli oggetti, onestamente. Mi piacerebbe lasciare così. Da quanto è bello il packaging. A me è l'oggete che ha mandato tutto quanto, tipo... Eh, anche te mi ha mandato tutto. Sì. Quindi puoi ririchiedere, boh, mi sa... Dico, no, ho già tutto, non mi serve avere la roba KIDA. Però sono lì che ci sbavo su e dico, eh, però è bello. Eh. Però è bello. Eh, vabbè. Pochi eletti, pochi eletti. Ebbè. E modestamente. Se non li manda me il Riot. Ah, il portale nostro è stato proprio tolto? L'ho tolto io a sto punto come avevo messo. Ah, ok. Allora sta qua la userò come piattaforma. Faccio un altro albero lì. Faccio un albero piantagione di verrucchela. Questa qua la uso come piattaforma di intersezione. Ma mi è rimasto solo una... No, piagano, piagano! Guarda, guarda, guarda! Perché? Dove muoiono? Ah, aspetta, che qua... Dov'è che muoiono? Ah, le tartarughe? Eh. Sì. Bella domanda. Fatto sta che muoiono. Non lo so, Leo, mi dispiace. Ci vediamo a un prossimo video. Rorati, grati! Mi sono morti tra tartarughe! Oh, aio! Eh, rimangono incastrate, ma dove? Cazzo, non c'è la pressure. Vabbè, sti cazzo. Cazzo da capire. Finisce così, to. Metto una testa nei blocchi, ma allora sono stupide loro? Probabile. Leo, vuoi venire a provare anche a te l'autostrada? L'autostrada? Sì. Anzi, aspetta. Tre casa e ci sono. Beh, sì. Le tartarughe devono respirare? Beh, sì. Ovviamente, devono respirare. C'erano da respirare lì. Sono esseri viventi. Allora, prego, le ho purtroppo sono ancora un po' messi così. Ce l'hai il tuo kart? No? Te ne faccio uno. Grazie mille. Ecco dovrà finito tutto il ferro. Eh, minchia, hanno usato tantissimo. Ne abbiamo poco ora. Vabbè, si rifarma easy quello. Entra pure. Via! Eeeh. Eeeh, ma mamma mia. Piangete! Ma che bella. Triggeriamo l'enderman. No, non lo vedo più da qui, cazzo. Un tigrello che ci inseguiva nel carrello. Mi pittavo nel carrello. Eh. E lo portavamo con una... Cioè, lo facevi girare per tutta resistenza. Ma che bella. Ma quanto lunga. Abbassiamo l'audio delle creature amichevoli, Leo. Avete preso l'audio rite che avevo messo nella chest qua? Può essere, non lo so. Fatto sta che è bella lunga. Ok, creature amichevoli. Eh, qua sotto poi è da abbellire. Vabbè, certo, una merda. Però vabbè. Intanto è un inizio. Cazzo, è un signore inizio. Quanto è lunga, quanta è lunga. Guarda lì il trampool dei mates. Sigillati. Il messico, ragazzi. Sembra tipo la dimora dei cattivi. È vero, i villains sono. Grazie, galandini di tre mesi, asciugamanu, grazie del premio, benvenuto. Come? È curva? Non curva. Adesso è dritta. E cosa c'è dopo il mates? Niente. È per quello che abbiamo finito. E perché sta andando dritta ancora? È perché Bertha vuole farla dritta. Però adesso ovviamente cioè faremo tipo la diramazione a un certo punto per andare allo spawn o dove sarà. Eccoci qua. Hai capito. Eh, bisogna farci la curva. Possiamo tornare a casa adesso. In realtà si potrebbe fare la curva sempre capirci. Aspetta, sto andando a piedi per farti vedere. Da qui che curva a destra e va verso lo spawn. Ma dai, ma fai un giro inutile. Aspetta, vieni Leo, torniamo a casa. Lui è già sul carrellino. Eh, vabbè, lui è già sul carrellino. Allora. Ma se scenderei sul carrellino se ne va senza di me. Beh, lo puoi rompere. Vabbè, sto arrivando. Vediamo un po' se... Perché non ho ancora fatto il viaggio di ritorno. Vediamo un po' se va. Vediamo se funziona. Dietro casa di Poldo, arriva a casa di nove Giampi e poi si riunisce la nostra. Cioè, fa il cerchio. Ah, comunque lì c'è anche il... lo zombie villager insieme al creeper se mai volessi portarlo a casa. Però l'ha fatto di notte. Oddio, forse seguendo il fiume dell'acqua. Vabbè, lo mettiamo sull'autostrada. Dobbiamo riformarne un po' di zombie villager. Eh. Sai, Leo, cosa potresti fare? Potresti... Tanto, c'è lo zombie villager, lo vedi, è praticamente alla fine dell'autostrada a destra. Prima del tunnel dove finisce. E... 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 Se vuoi, se cosa, faccio un cartello di che è claimato da... Da fieri che lei e Bertra così non... Non ci rompono il cazzo. Ok, ok. Comunque sì, il raccordo anulare non sarebbe una idea cattiva. Ho comunque fatto bene. Cioè, i rallentamenti che vedete è per il lag del server, altrimenti, cioè, va... Va sempre alla stessa velocità, va bello dritto. Mi piace, mi piace. Ci sta, carino, il raccordo anulare. Tra la tua strada per adesso, potrebbe diventare un raccordo anulare. Eh sì. Va niente, mancava l'ultima rotaia, quindi niente. Allora, faremo un raccordo... Cioè, la parte infinita la facciamo fare a Bertra che va dritto per dritto come vuole lui. Ma no, ma ci siamo fermati lì perché non ha senso andare dritto. Bertra vuole andare dritto per dritto all'infinito. Va bene, ci penserà... Peggio per lui. Io voglio fare gli allacci alle abitazioni, così, quando ci sarà candidatura, che non ho capito ben quando sarà, però sarà, la gente voterà a me. Ok, va bene. Possiamo fare lunedì, magari. No, non vogliamo fare le cose. Nova avrà solo promesse, noi avremo solide realtà. Minchia, davvero. Nova è spacciato. Nova non diventa, non verrà mai votato con un raccordo del genere. Cioè, dai l'autostrada che va in casa di tutti, ma stiamo scherzando. Cioè, ragazzi... come in costruzioni. Nova cosa fa? Schifo. Mamma mia, vergognoso. E voi lo votate pure? Non penso. Potrebbe essere il nostro... Come si dice? Lo slogan. E voi lo votate pure? È molto carino. Potrebbe essere un po' del migratorio, non lo so. Ma comunque dicevo, se ne frega. Qua, c'è un'altra piattaforma uguale a questa, e la faccio proprio attaccata, cioè, con l'albero, non quello lì, l'altro albero più vicino, che ci metto tutte le fornace e tutta la roba. Va bene. Ci sta come idea. Cos'è tutto bello attaccato? Chat, voi chi votereste? Me o Nova? Dai, su via. Onestamente, con... Se vi promettono... Se vi promettono un'autostrada che va a arriva a casa... Nova cosa ha promesso finora? Non si sa niente. No, è vero. Nova chiede, basta. Lui ha chiesto. Lui ha semplicemente chiesto. Vergognoso, Nova. Vergogna. Stasera faccio la vena. Faccio la stanza dei villager... Scusa, la cosa delle... Dove qua c'è la roba. Faccio la cosa dei villager e se riesco pure il porto. Ecco. Ah, ma stasera faccio full costruzione. A proposito, Leo, se riesci stasera, prendi anche un po' di ferro e oro che servono tante altre rotaie e siamo senza ferro e oro. Abbiamo giusto qualche blocchetto. Quindi... E che ne abbiamo un'infinità. La madonna si costa la roba. Eh, lo so. Eh, considera che... Eh... Sì, costa... No, costa veramente tanto. Avevo fatto un miliardo di rotaie, purtroppo. Cioè... Quanto sono sei? Con sei di oro fai sei rotaie. Due stack tirati, sì, sì. Ok. Abbiamo poco. Vabbè. Va bene, Leo, ti saluto allora. Anch'io. Stacchi anche tu? Sì, sì. Va bene. Allora ci vediamo questi poveri. Va bene. Buona live per stasera. Ok, grazie. Poi torno lunedì sul server. Che non ci sono weekend. Ciao, Leo. Ciao, ciao, ciao.